La casa di Fyodor Pavlovich Karamazov sorgeva ben lontana dal centro della città, ma d'altronde non proprio all'estrema periferia. Era una casa piuttosto vecchia, ma di aspetto simpatico, a un solo piano, con un lattico ad una tinta bigiognola sotto il rosso tetto di ferro. Poteva del resto avere ancora lunga vita ed era spaziosa e piena di comodi. Sarà in essa una gran quantità di stambucci diversi, di ripostigli di ogni genere e di scalette a sorpresa. I topi ci scorrazzavano, ma Fyodor Pavlovich non li guardava troppo di malocchio. Ti alleggeriscono pur sempre la noia quando la sera resti solo soletto, che egli aveva infatti l'abitudine di mandare a dormire la servitù nel padiglione posteriore e in casa si rinchiudeva solo per tutta la notte. Il padiglione sorgeva nel terreno adiacente alla casa. Era ampio e solido. In esso Fyodor Pavlovich aveva voluto allogare anche la cucina, benché la cucina ci fosse anche in casa, ma non gli piaceva l'odore di cucina e bisognava così portare i cibi attraverso il cortile d'inverno ed estate. Nell'insieme era una casa costruita per una famiglia numerosa e fra signori e servitori se ne sarebbero entrati cinque volte tanti. Ma al momento del nostro racconto abitavano nella casa soltanto Fyodor Pavlovich e Ivan Fyodorovich e nel padiglione della servitù tre persone in tutto. Il vecchio Grigori, la vecchia Marfa, sua moglie, e il cameriere Smerdyakov, uomo in ancora giovane età. Del vecchio Grigori Vasilievich Kutuzov abbiamo già in fondo parlato abbastanza. Era un uomo fermo e rimovibile, avvezzo a tirar via testardamente e in linea retta verso il punto che aveva di mira. Perché questo punto di mira, per una ragione qualsiasi, che spesso era di una stupefacente illogicità, gli si prospettasse di l'anzi come una verità infallibile. Come caratteristica generale era onesto e incorruttibile. Sua moglie, Marfa Ignatevna, sebbene di fronte alla volontà del marito si fosse indiscriminatamente piegata tutta la vita, pure aveva insistito con accanimento subito dopo l'abrogazione della servitù delle gleba, perché lasciassero Fyodor Pavlovich e si trasferissero a Mosca, dove avrebbero potuto avviare qualche piccolo commercio, giacché disponevano di un loro bruzzoletto. Ma Grigori aveva deciso in quell'occasione, e una volta per sempre, che una donnacchera parlava avambera, giacché ogni femmina è disonesta, e che andarsene via dal padrone vecchio sarebbe stato mal fatto da parte loro. Comunque costui potesse essere in se stesso, perché questo presentemente era il loro dovere. Comprendi tu che cos'è il dovere? Si rivolse egli a Marfa Ignatevna. Il dovere sì che lo comprendo, Grigori Vasilievich, ma che dovere ci sia ora per noi altri di restarcene qua, non posso proprio capacitarmene. Ribatte ferma Marfa Ignatevna. Se tu non te ne capaciti, ad essere ugualmente così. Da oggi in avanti non riparlarmene più. E così fu. Essi non se ne andarono, e Fyodor Pavlovich assegnò loro una retribuzione fissa, non un granché, e gliela pagò regolarmente. Grigori sapeva inoltre d'avere sul padrone un'influenza indiscutibile. Tale era la sua impressione, ed era nel giusto. Quello scaltro e ostinato buffone, Fyodor Pavlovich, d'un carattere così tenace in certe faccende della vita, come soleva dire lui stesso, era poi, con sua propria meraviglia, peggio che è debole di carattere in certe altre faccende della vita. E lui era il primo a sapere in quali, a saperlo e ad averne gran timore. In alcune faccende della vita bisognava tener l'orecchio ben dritto, e questa era una cosa gravosa senza l'aiuto di un uomo fedele. Ed ecco che Grigori era il più fedele degli uomini. Accadeva pure che molto spesso Fyodor Pavlovich, nel corso della sua carriera, si trovasse il punto ad essere picchiato, e picchiato sodo. E sempre era Grigori che lo traeva in salvo, sebbene poi ogni volta gli facesse tanto di paternale. Ma le busse soltanto non avrebbero spaventato Fyodor Pavlovich. Sopravvenivano ben altri casi, e a volte assai sottili e complicati, in cui Fyodor Pavlovich non sarebbe stato in grado, neppure lui, magari, di definire con precisione quest'insolita esigenza ad un uomo fedele e amico, che subitaneamente e inspiegabilmente si sentiva ad un tratto sorgere dentro. Erano cotesti momenti quasi morbosi. Uomo estremamente dissoluto e nella sua libidina spesso crudele, come un cattivo insetto, Fyodor Pavlovich, d'improvviso, veniva a sentirsi nell'intimo, quando era ubriaco, un terrore spirituale e un rabbrividirgli della coscienza, che per così dire, gli si ripercoteva quasi fisicamente in fondo all'essere. L'anima pare che mi palpiti in gola, in quegli istanti, diceva lui certe volte, e appunto in momenti simili, ecco, gli riusciva Caro, che a portata di mano, poco distante, magari non nella stessa stanza, ma là nel padiglione, ci fosse un uomo di quella fatta, devoto, fermo, tutt'altro che come era lui, alieno da ogni dissolutezza. Un uomo che benché assistesse allo svolgersi di tutti questi eccessi e conoscesse tutti i segreti, fosse tuttavia così devoto da menargli buono a ogni cosa, non lo contrariasse, non lo rimproverasse e non lo minacciasse di nulla, né in questa vita né in quell'altra. Un uomo che, in caso di bisogno, subito lo avrebbe difeso. Difeso da chi? Da non so qualcosa di ignoto, ma di tremendo e di minacciante. L'importante era proprio questo, che ci fosse senza meno un altro uomo, vecchio di casa e amico, da poter chiamare in qualsiasi minuto di crisi, non per altro che per rivederlo in faccia, o tutt'al più per scambiarci due chiacchiere. Fossero pure le più banali del mondo. E se quello non si stizziva, allora il cuore ne ritraeva come un sollievo. Se invece si stizziva, allora aumentava la tristezza. Avveniva, ma è vero assai raramente, che Fiodor Paolovic si recasse perfino di notte là, al padiglione, a svegliare Grigori, che per un minutino gli venisse in casa. Quello veniva e Fiodor Paolovic ci si metteva a discorrere delle più futili inezie. Poi ben presto lo licenziava, a volte perfino canzonandolo un po' e facendo il buffone. È rimasto solo, con un bello sputacchio, si colicava e si addormentava nel sonno del giusto. Qualche cosa di simile era accaduto a Fiodor Paolovic, anche al tempo del ritorno di Alyosha? Alyosha gli aveva trafitto il cuore, per il fatto che stava lì, vedeva ogni cosa e non c'era caso che lo giudicasse. Non solo, ma aveva arrecato con sé una cosa inconsueta. La più assoluta mancanza ad ogni disprezzo per lui, per il vecchio babbo, e anzi un'amabilità sempre uguale. È uno schietto perfettamente spontaneo attaccamento a lui, che tanto poco se lo meritava. Era anche questa, per il vecchio libertino senza famiglia, una profonda sorpresa, che egli, crogiolatosi fin qui nell'ordura, non si aspettava davvero. Quando Alyosha lasciò la casa, egli si dovette confessare che aveva compreso qualche cosa che fino allora non aveva voluto comprendere. Ebbe già a ricordare all'inizio del mio racconto come Grigorio odiasse Adelaida Ivanovna, prima moglie di Fiodor Paolovic e madre del suo figlio Dimitri Fiodorovic, e come al contrario difendesse la seconda moglie, la Klikusha, Sofia Ivanovna, contro il suo stesso padrone e contro chiunque si prendesse il gusto di arrischiare su di lei una parola malevola o avvelenata. In lui la simpatia per quella sventurata sarà convertita in qualcosa di sacro, così che ancora dopo vent'anni non avrebbe tollerato da parte di chi che sia neppure un cenno malevolo verso di lei e senza indugio avrebbe rimbeccato l'offensore. L'aspetto di Grigori era quello di un uomo freddo e grave, di poche chiacchiere, di quelli che mettono fuori le parole ben pesate, senza ombra di avventatezza. Sarebbe stato impossibile così indovinare a prima vista se egli avesse o no dell'affetto per la sua docile paziente donna, ma il vero è che lo voleva bene, e quella in fin dei conti lo capiva. Cotesta Marfa Ignatevna era una donna non solo tutt'altro che stupida, ma forse anche più intelligente del suo consorte, o perlomeno più avveduta di lui nelle faccende quotidiane, ma ciò non toglie che essa gli si assoggettasse senza mormori e senza ribellioni, fin dal giorno che si erano sposati, e che avesse di lui una stima incrollabile, come d'una cima in fatto di cose spirituali. È da notare che tutte e due passavano la vita scambiandosi in un l'altro pochissime parole, e unicamente a proposito delle cose più indispensabili e usuali. Il grave e solenne Grigori maturava tutti i suoi affari sempre da solo, cosicché già da gran tempo Marfa Ignatevna aveva ormai compreso che, dei consigli di lei, egli non provava il minimo bisogno. Essa intuiva che il marito apprezzava il suo silenzio e riconosceva una prova della sua intelligenza. Picchiarla non l'aveva picchiata mai, tranne forse una volta in tutto e anche quella leggermente. Era stato il primo anno che Adelaida, Ivanovna e Fiodor Paolovici erano sposi, nel loro possedimento di campagna. Un giorno che ragazze e donne della tenuta, non ancora affrancate a quei tempi, si erano raccolte di fuori dalla casa dei padroni a cantare e a ballare. Avevano attaccato per prati, ed improvviso Marfa Ignatevna, che allora era una donna ancora giovane, si era slanciata fuori dal coro e aveva eseguito la russa in maniera speciale. Non nella campagnola come le contadine, ma come danzava quando era a servizio dai ricchi Musov, nel teatro che essi tenevano nella loro residenza di campagna, dove c'era, apposta per insegnare le danze agli attori, un maestro di ballo scritturato da mosca. Grigori assistette all'esibizione della moglie, e quando furono di ritorno nella loro isba, di lì a un'ora le impartì una lezioncina, dandole qualche tirata di capelli. Ma con questo ebbero fine, una volta per sempre, le percosse, e non ebbero a ripetersi mai più per tutta la vita, a parte che da quel giorno Marfa Ignatevna aveva fatto voto di non ballare più. Figli, il Signore non ne aveva dati loro, avevano avuto un bambino, ma anche quello era morto. E Grigori li amava i bambini. Si vedeva bene, anzi era una cosa che non nascondeva neppure, vale a dire non provava vergogna a manifestare. Dimitri Jodorovic, egli se lo era preso in braccio quando Adelaida Ivanovna era fuggita, che era un bimbetto di tre anni allora, e lo aveva custodito per quasi un anno, ravviandogli lui stesso col suo pettinuccio i capelli, lui stesso facendogli il bagno dentro al mastello. Più tardi aveva avuto da fare anche con gli altri, sia con Ivan Fyodorovic, sia con la Gioscia, e per ricompensa gliene era toccato un ceffone. Ma queste sono cose di cui già si è parlato. Quanto al figlioletto suo, l'unica gioia che gliene fosse venuta era stata la speranza, mentre ancora Marfa Ignatevna era incinta. Quando poi era nato, il cuore gli si era rattratto d'angoscia e d'orrore. Il fatto è che il bambino era nato con sei dita. A veder questo, Grigori era rimasto così avvilito, che non solo si era chiuso nel più completo silenzio fino al giorno del battesimo, ma se ne andava, apposta per non parlare, in giardino. Era di primavera, e per tre giorni di seguito lui se ne stette a zappare gli ortaggi, in giardino. Passati tre giorni, bisognava battezzare il neonato, e ancora Grigori non era venuto in nessuna determinazione. Entrando nella stanzuccia, dove sarà raccolto l'accompagnamento ed erano convenuti gli invitati, tra cui perfino Fyodor Paolo Ovici in persona, intervenuto appositamente in veste di padrino, a brucia pelo dichiarò che il bambino non andava battezzato affatto. Dichiarò così senza alzar la voce, senza stare a diffondersi in chiacchiere, cavandosi di malavoglia la parola di bocca, e intanto badava a guardare, ottuso e fisso, il sacerdote. «O perché mai?» con allegra meraviglia si informò il sacerdote. «Perché questo è... un drago!» mormorò Grigori. «Ma che drago? Come un drago?» Grigori stette in silenzio per qualche minuto. «C'è stata una confusione di natura», mormorò egli, «in vero con assai poca chiarezza ma con gran sicurezza, e con un desiderio evidente di non diffondersi oltre.» La presero in gridere, e come è naturale, il povero bambinetto fu battezzato. Al fonte Grigori pregò devotamente, ma la sua opinione sul neonato restò quella. Non faceva del resto opposizioni di sorta. Soltanto per due settimane che quel bambino malaticcio visse, si può dire che non gli desse un'occhiata, anzi cercava di non notarne l'esistenza, e passava la maggior parte del tempo fuori di casa. Ma quando il bambino in capo a due settimane morì d'afta, allora fu lì stesso ad accompagnarlo nella cassettina, e tutto accorato lo rimirava. Se quando quella piccola fossa, così poco profonda fu richiusa, si pose in ginocchio e si inchinò con la fronte fino a terra. Da quel giorno, per molt'anni, non una volta che mentovasse più il suo bambino, e Marfa Ignatevna, del pari, non una volta che in presenza di lui ricordasse il bimbo suo. Ma quando con qualcun altro le avveniva di parlare di quel suo figliolino, ne parlava con un soffio di voce, sebbene Grigori Vasilievich non fosse di presente. Come Marfa Ignatevna notò, egli, da che ci fu quella piccola tomba, cominciò a prendere un grande interesse per le cose di chiesa, e sempre leggeva il martirologio, per lo più in silenzio e da solo, dopo aver inforcato i suoi grandi, rotondi occhiali d'argento. Tra le volte, si faceva leggere ad alta voce, a meno che non fosse di quaresima. Prediligeva il libro di Giobbe. Si era procurato non so dove, una raccolta delle sentenze e delle omelie del serafico padre nostro Isacco Siro, e la leggeva ostinatamente da anni e anni, senza capirci si può dire un bel niente. Ma appunto per questo, forse, erano più grandi che mai la stima e l'amore che aveva per quel libro. In questi ultimi tempi, aveva cominciato a prestare ascolto e a compenetrarsi delle idee dei clisti, come aveva avuto modo per il tramite di certi vicini. Ne era rimasto profondamente scosso, ma passare alla nuova fede non gli era parso raccomandabile. Tanta intrinsechezza coi libri, con quelli sacri si intende, era venuta a conferire alla sua fisionomia una gravità anche più accentuata. Forse sarà in lui un'inclinazione al misticismo. Ma poi, nemmeno a farlo apposta, la nascita di quel suo bambino con sei dita e la sua morte erano coincisi con un altro caso davvero strano, imprevedibile e bizzarro, che gli aveva lasciato nell'anima, come una volta si era espresso lui stesso, una specie di marchio. Era accaduto, precisamente, che in quello stesso giorno, in cui avevano portato al camposanto il piccino con sei dita, Marfa Ignatevna, destatasi la notte, aveva udito come il pianto di un bambino appena nato. Spaventata, aveva svegliato il marito. Questi aveva atteso l'orecchio e aveva osservato che pareva, piuttosto, qualcuno che si lamentasse, come se fosse una donna. Sarà levato e sarà vestito. Era una tiepida notte di maggio. Uscito sulla scaletta, aveva udito con chiarezza che i lamenti venivano dal giardino. Ma il giardino, come ogni notte, era chiuso dalla parte del cortile con tanto di catenaccio e, introdurvisi per qualche altro passaggio, non era possibile, se che tutto intorno al giardino girava un solido e alto muro di cinta. rientrando in casa, Grigori accese la lanterna, pigliò la chiave del giardino e, senza far caso l'esterico spavento della moglie, la quale saccaniva a dire che sentiva piangere un bambino e che era certo il figliolino suo che piangeva e la chiamava, senza far motto, s'avviò al giardino. Là ebbe la percezione esatta che i lamenti venivano dalla baracca del bagno, che sorgeva in giardino poco lontano dal cancelletto e che a lamentarsi era probabilmente una donna. Aprì il bagno e gli si presentò uno spettacolo, di fronte al quale restò impietrito. Una scema della città, usa a vagabondare per le vie e nota a tutti in città, il soprannome Lizaveta Smerdiaskaya, si era intrufolata lì nel bagno e si era sgravata ad un bambino. Il bambino giaceva accanto a lei ed essa gli agonizzava accanto. Parlare non parlava affatto, se non altro perché non sapeva parlare, ma tutto questo richiede una spiegazione a parte. Lizaveta Smerdiaskaya. C'era qui una circostanza particolare, che aveva scosso profondamente Grigori, confermandolo definitivamente in uno sgradevole e agghiacciante sospetto, già insinuatosi in lui. Codesta Lizaveta Smerdiaskaya era una ragazza di piccolissima statura, un metro e mezzo si e no, come pietosamente ricordavano di lei, dopo la sua morte, molte delle benefiche vecchiette della nostra città. La sua faccia di ventenne, piena di salute, larga e colorita, aveva un'espressione completamente idiota. La guardata degli occhi era fissa e sgradevole, sebbene mansueta. Andava sempre in giro, l'estate ed inverno, coi piedi nudi e senz'altro indosso che una camicia di canapa. I capelli quasi neri, straordinariamente fitti, cresputi come un vello di montone, lei combevano sulla testa a foggia di non so che enorme cappello. Erano per di più sempre impiastrati di terra e di fango e intricati di foglioline, di fuscelli, di truccioli, già che la ragazza dormiva sempre per terra e tra il fango. Suo padre era un malazzato rovinato Mescianin, senza casa. Ilia, che si era dato tutto albera, e già da molti anni viveva in qualità d'operaio presso alcuni agiati padronali, anch'essi Mescianè della nostra città. Quanto alla madre di Elisaveta, del gran tempo era morta. Il sempre malaticcio e incattivito Ilia picchiava in modo inumano Elisaveta quando questa tornava a casa, ma essa ci tornava di rado. Già che godeva dell'ospitalità di tutta la città, come mente catta e creatura di Dio. Tanto i padroni di Ilia quanto Ilia stesso, e così pure molte persone compassionevoli della città, specialmente mercanti e mercantesse, s'erano provati più volte a rivestire Ilisaveta in modo più decente, che così in camicia e basta. E sempre d'inverno le gettavano indosso una pelliccetta di pecora, e le calzavano ai piedi un paio di scarponi. Ma lei regolarmente, dopo essersi lasciata indossare ogni cosa senza batter ciglio, se ne andava, e in un posto o nell'altro, a preferenza sotto il portico della cattedrale, si sfilava di dosso tutto quello che le avevano offerto, fazzoletta da testa, camicetta, pellizzetta, scarponi. Lasciava tutto lì, e via scalza, e in camicia come prima. Accadde un giorno che il nuovo governatore del nostro governatorato, sopraggiunto a espezionare la nostra cittadina, restasse gravemente offeso nei suoi più nobili sentimenti, alla vista di Ilisaveta, e sebbene intendesse che si trattava di una folle, come subito gli fu riferito, non poteva stenersi dal far rilevare che una ragazza così giovane, in giro per le vie, senz'altro indosso che la camicia, feriva la decenza, e che perciò d'ora innanzi andava tolta di mezzo. Ma il governatore ripartì, e Ilisaveta fu lasciata stare come sempre. Alla fine il padre le morì, e questo fece sì che essa diventasse a tutte le persone benefiche della città più cariche mai, orfana com'era. Ed effettivamente, non si sa bene perché, tutti avevano dell'affetto per lei, e i ragazzetti stessi non la schernivano e non la offendevano. Eppure, i nostri ragazzetti, e specialmente quelli delle scuole, sono una razza davvero molesta. Lei entrava in casa agli sconosciuti, e nessuno la discacciava, anzi, chiunque la trattava con grazia e le monetina. Appena le davano la monetina, la epigliava e subito la portava via, e andava a lasciarla in qualche bussola da elemosine, in chiesa o alle carceri. E appena al mercato le davano un croccantino o un panino bianco, s'avviava infallibilmente al primo bambino che incontrava, dava via croccantino e panino, o se no, ecco, fermava qualcuna delle nostre signorine più agiate, e le offriva a quelle. E le signorine accettavano addirittura con gioia. Quanto a lei, si nutriva unicamente di pan nero ed acqua. Entrava a volte in un negozio di lusso, si piantava lì, dove era esposta merce di valore. C'era lì anche del denaro. Ma i padroni non avevano di lei il minimo sospetto. Sapevano che potevi scioginarle dinnanzi le carte da mille e dimenticartene, che già lei non ne avrebbe tolto neppure un centesimo. In chiesa era raro che ci andasse, ma, per dormire, o le servivano ai portici delle chiese o scavalcava qualche steccato. Vi sono da noi molti steccati, al posto dei muri di cinta ancora oggi, ed entrava nell'orto di qualcuno. A casa, cioè in casa di quei padroni presso i quali aveva abitato il padre Bonanima, faceva la sua apparizione di regola una volta alla settimana. Ma, nell'invernata ci veniva anche tutti i giorni, però soltanto a passare la notte. E per nottava, quando nel vestibolo, quando nella stalla delle vacche. La gente si meravigliava che potesse sopportare una vita simile, ma lei ormai sarà abituata così. Era piccola, sì, di statura, ma di complessione era eccezionalmente forte. C'erano, come fra i nostri signori, alcuni che volevano sostenere che in tutto questo suo modo di vivere si celasse una specie d'orgoglio, ed era un'opinione davvero poco credibile. Se non sapeva dire una parola, e solo di rado cianciugliava qualche cosa con la lingua, e cacciava un mugolio. Che orgoglio volevate che ci fosse. Ora ecco che un bel giorno, ne è passato ormai del tempo, in una luminosa e tiepida notte settembrina, di luna piena, a tardissima ora, secondo le nostre abitudini, un branco avvinazzato di signori nostri, cinque o sei cagliardi gaudenti, se ne tornava dal club, per le corte, alla volta di casa. Da una parte e dall'altra del vicolo erano tutti steccati, dietro ai quali si stendevano gli orti delle case attigue, e in fondo il vicolo andava a sboccare sulla passerella che traversa quel fetido e lungo stagno, a cui per convenzione locale diamo a volte il nome di Fiumicello. Da piedi a uno steccato fra ortiche e bardane, apparve alla nostra brigata l'izzaveta che dormiva. Brilli come erano, i signori le si fermarono attorno con alte risa e cominciarono a far dello spirito con ogni sorta di frizzi scollacciati. A una dei signorini valenò a un certo punto un eccentrico interrogativo su un tema inaudito. «Sarebbe possibile, amici, che si trovasse qualcuno al mondo capace di scorgere in questa bestia selvaggia una donna? Per esempio in questo momento?» eccetera eccetera. Tutti, con superbo ribrezzo, conclusero che non era possibile. Ma della squadra si trovava a far parte Piodor Paolovic. E subito lui saltò fuori affermando che era possibile, sì, scorgere in costeio una donna. Anzi, altro che possibile. Ci sarebbe stato addirittura un chiedi piccante. E via via di questo passo. È vero che in quell'epoca, qui fra noi, che gli sarà dato anima e corpo alla sua parte di buffone. E gli piaceva, con le sue scappate, divertire i signori. In un'apparenza d'eguaglianza, sia pure, ma in realtà come un loro vero e proprio lacché, si era appunto in quel torno di tempo in cui gli era arrivata da Pietroburgo la notizia della morte della prima moglie, Adelaida Ivanovna. E lui, con lutto al cappello, beveva e faceva baldoria, in una maniera che molti del luogo, anche fra i più dissipati, soltanto a vederlo si sentivano rivoltare. La brigata, naturalmente, accolse con risa e schiamazzi quel parere inatteso e ci fu qualcuno che cominciò perfino a incitare Fiodor Paolovic. Ma gli altri si diedero a sputare con più ribrezzo che mai, seppur sempre di grandissimo buon umore. E finalmente proseguirono tutti per la loro strada. In seguito, Fiodor Paolovic giurava e spergiurava che in quel momento anche lui si era avviato con tutti gli altri. E forse era stato veramente così. Nessuno sa con certezza come siano andate le cose, né si è saputo mai. Ma, lì a cinque o sei mesi, tutti in città cominciarono a parlare con profonda e inesprimibile indignazione del fatto che Elisaveta era incinta. E si misero a dimandare e a indagare di chi fosse la colpa, chi mai l'avesse oltraggiata. Ed ecco, d'improvviso, spargersi per tutta la città l'orribile voce che l'autore dell'oltraggio fosse proprio Fiodor Paolovic in persona. Di dove si era originata questa voce? Di quella brigata di signori in Baldoria rimaneva ormai in città un solo superstite. E per giunta era questi un anziano e rispettabile consigliere di Stato, che aveva tanto di famiglia e di figliuole giovinette e non si sarebbe mai indotto a diffondere nulla di nulla, seppur qualche cosa ci fosse stato. Quanto agli altri partecipanti, che erano cinque, erano andati chi di qua, chi di là. Ma la voce dritta dritta si appuntava su Fiodor Paolovic e insisteva ad appuntarsi su lui. Egli in fin dei conti non se ne risentiva neppure granché. A mercantesse o a piccoli artigiani di quella fatta non si sarebbe neppur pegnato di rispondere. Era orgoglioso allora e trattavane più nemmeno come persone della sua classe funzionari e nobili, che tanto si spassavano con lui. Fu allora che Grigori, energicamente, con quante forze aveva, si revò a difesa del suo padrone e non solo lo sfermiva da tutte quelle calunnie, ma affrontava per lui liti e discussioni e riuscì a far ricredere molti. È stata lei stessa quella ragazzaccia la colpevole di tutto, diceva con convinzione. E quanto all'autore dell'oltraggio non poteva essere altri che Carp dal Trivello, così chiamavano un temibile detenuto, famoso allora in città, fuggito in quel torno di tempo dal penitenziario del governatorato e rifugiatosi di nascosto qui da noi. La supposizione era apparsa plausibile, giacchie di Carp se ne rammentavano. Si rammentavano anzi che proprio in quelle nottate verso l'autunno vagabondava per la città e aveva rapinato tre persone. Ma tutto quello che era soppravvenuto e tutte le chiacchiere che ne erano seguite, non solo non avevano allontanato la simpatia generale dalla povera demente, ma anzi tutti, dall'ora in poi, la avevano protetta e custodita con più cura. La mercantessa Contratevna, agiata vedova, aveva addirittura disposto le cose in modo che già prima del finire d'aprile, sarà presa Elisaveta in casa, con l'intenzione di tenerla con sé fino al parto. La vigilavano con gran diligenza, ma il caso volle che nonostante tutta la vigilanza, Elisaveta proprio all'ultimo giorno, la sera, di soppiatto fuggisse dalla Contratevna e andasse a finire nel giardino di Fyodor Pavlovich. In che modo, nelle condizioni in cui si trovava, avesse scavalcato l'alto e solido muro che cingeva il giardino, era rimasto un enigma. Alcuni sostennero che l'aveva fatta passare qualcuno, altri che l'aveva fatta passare il diavolo. La cosa più probabile è che tutto fosse avvenuto in modo naturale, seppure assai difficile da spiegarsi, e che Elisaveta, pratica ad arrampicarsi su per gli steccati per entrare e passare la notte negli orti altrui, si fosse inerpicata in qualche modo anche sul muro di cinta di Fyodor Pavlovich, e di lassù, pur facendosi male, fosse saltata giù nel giardino, nonostante le condizioni in cui si trovava. Grigori si era precipitato da Marfa Ignatevna e l'aveva mandata in aiuto a Elisaveta, mentre lui correva da una vecchia elevatrice, una piccola bottegaia che abitava poco lontano. Il bambino era stato salvato, ma Elisaveta prima di giorno era morta. Grigori aveva tolto il suo piccino, se lo era portato a casa e fatta sedere la moglie glielo aveva posato in grembo, accosto al seno. Questo figlioletto è di Dio, l'orfanello, a tutti è parente, e a noi due tanto più. Questo ce lo manda il morticino nostro, ed è nato dal figlio del diavolo e da una giusta. Allattalo e non piangere più. E così Marfa Ignatevna aveva allevato il bambino. Lo avevano battezzato imponendogli il nome di Paolo e quanto al patronimico, tutti quanti e anche loro cominciarono a chiamarlo, senza intenzione, Fyodorovich. Fyodorovich non aveva avuto nulla in contrario e aveva perfino trovato la cosa divertente, sebbene con grande energia continuasse a protestarsi innocente di tutto. In città aveva fatto buona impressione che gli avesse accolto il parello. Più tardi, Fyodorovich aveva escogitato per costui anche un cognome. Lo aveva chiamato Smerdiakov, dal soprannome della madre, Izaveta Smerdiakoskaya. E appunto questo Smerdiakov era divenuto il secondo servitore di Fyodorovich e abitava, al tempo in cui ha iniziato il nostro racconto nel padiglione, insieme col vecchio Grigori e con la vecchia Marfa. Si occupava specialmente della cucina. Sarebbe più che necessario a questo punto dir qualche cosa anche di lui in particolare, ma io sento vergogna, tener sospesia tanto a lungo l'attenzione dei miei lettori su dei banalissimi lacche. E perciò ritorno alla mia narrazione, sperando che di Smerdiakov si offrirà spontaneamente il destro di parlare nel corso ulteriore del nostro racconto. Confessione di un cuore ardente in versi Agli oscia udì, l'ingiunzione che il padre gli gridava dalla carrozza, uscendo dal monastero, giunse lì per qualche minuto in un profondo sbigottimento. Non già che stesse lì imperterrito, a lungo. Era questa una cosa che non soleva avvenirli. Al contrario, con tutta quella inquietudine che lo agitava, seppe avviarsi senza perdere tempo alla cucina del legumeno, a informarsi di quanto avesse fatto di sopra il babbo suo. Fatto questo, però, si mise in cammino verso la città, sperando che strada facendo sarebbe riuscito in qualche modo a risolvere il problema che lo opprimeva. Dirò subito che i gridi del padre e le ingiunzioni di traslocarsi in casa, quei guanciali al materasso, egli non li temeva affatto. Comprendeva troppo bene che quell'ingiunzione di venir via, gridata così in pubblico e con tanto esibizionismo, era uscita dal padre in un momento di trasporto, per così dire, e quasi per amor dell'effetto. Una specie di quel che aveva fatto di recente, in quella stessa cittadina, un mieccanin ubriaco, il quale, festeggiando il proprio onomastico fra gli invitati, ha dirattosi che non gli dessero dell'altra vodka, d'improvviso sarà messo a menar bastonate alle sue proprie stoviglie, a lacerare l'abito suo e quello della moglie, a mandare in pezzi la sua mobilia, e infine ai vetri di casa e tutto per amor dell'effetto. Qualche cosa di simile, in fondo, doveva essere avvenuto a poc'anzi anche al babbo. L'indomani, ben si intende, il mie escanin ubriaco, sfumato alla sbornia, si era pentito di quello sfacello di tazzine e di piatti, e Agiosha sapeva che anche il vecchio, domani, lo avrebbe probabilmente rimandato al convento, e che anzi forse ce lo avrebbe rimandato oggi stesso. E poi aveva la più profonda certezza che il padre, a qualcun altro sì, ma a lui non avrebbe voluto far offesa. Agiosha era convinto che a lui nessuno in tutto il mondo avrebbe mai voluto far offesa, e non solo non avrebbe voluto, ma non avrebbe potuto. Questo per lui era un assioma, posto una volta per sempre, senza tanti ragionamenti, e sotto questo rispetto egli procedeva oltre, senza la minima titubanza. Ma in quel momento ribolliva in lui un altro timore, di tutt'altro genere, tanto più tormentoso in quanto neppure lui avrebbe potuto ben definirlo. Era il timore di una donna, e più precisamente di Caterina Ivanovna, la quale con tanta insistenza lo pregava, per mezzo di quel biglietto, rimesso gli dianzi dalla signora Cioclacova, di recarsi a casa sua per un motivo ignoto. Questa richiesta la necessità di recarsi là, ad ogni costo, gli avevano ad un tratto insinuato in cuore un vago tormento, e per tutta la mattinata, più le ore passavano, sempre più dolorosa quell'impressione lo aveva assalito, nonostante tutte le scene e gli incidenti venuti a sovrapporsi in convento, e orora da legumeno e via dicendo. Il timor suo non era di non sapere che cosa essa gli avrebbe detto e che cosa lui le avrebbe dovuto rispondere. E non la donna in genere temeva in lei. Di donne, è vero, ne conosceva poche, ma in tutta la sua vita, a cominciare da quando era bimbetto per finire quando era entrato in convento, unicamente con esse era vissuto per sempre. Egli aveva timore proprio di questa donna, di Caterina Ivanovna in particolare, ne aveva timore fin da quando per la prima volta la aveva veduta. La aveva riveduta poi una o due volte in tutto, al massimo tre, e aveva anzi scambiato un giorno per caso qualche parola con lei. E l'immagine che di lei gli era rimasta era quella di una bella, fiera e imperiosa ragazza. Ma non la bellezza di lei lo tormentava, ma era qualcos'altro. Ed era appunto questa impossibilità di chiarire il suo timore, quel che ora dava più forza a codesto timore. Gli scopi che quella ragazza si proponeva erano tanto pieni di nobiltà, lo sapeva bene. Essa faceva di tutto per salvare suo fratello Dmitri, che di fronte a lei era colpevole e agiva così unicamente per grandezza d'animo. Eppure, ecco, benché conoscesse e non potesse non apprezzare tutti i codesti bellissimi e generosissimi sentimenti, per la schiena gli correva un brivido man mano che veniva avvicinandosi alla casa di lei. Prevedeva che suo fratello, Ivan Fiodorovich, che era con lei in rapporti così amichevoli, non si sarebbe trovato ora in casa sua. Il fratello Ivan doveva stare adesso col padre. Dmitri poi era ancora più improbabile che ci fosse e vagamente ne presentiva il perché. E così dunque il loro colloquio si sarebbe svolto da solo a sola. Avrebbe avuto gran desiderio di rivedere, prima di questo colloquio tanto grave, il fratello Dmitri e di fare una corsa da lui. Anche senza mostrargli la lettera sarebbe stato possibile parlare un po' insieme. Ma il fratello Dmitri abitava distante e probabilmente a quest'ora non era neppure in casa. Rimasto fermo un momento su due piedi, presa infine una risoluzione definitiva. Si segnò rapidamente con l'abituale segno di croce e subito sorridendo a qualche cosa si avviò, deciso, verso la casa della sua terribile dama. Quella casa sapeva dov'era, ma se fosse dovuto passare per via grande, poi traversare la piazza e via dicendo, sarebbe stato un tragitto tutt'altro che breve. La nostra modesta cittadina è straordinariamente sparpagliata e le distanze ne risultano notevoli. Inoltre lui era aspettato dal padre, che forse non sarà ancora scordato della sua ingiunzione, era capace di andare su tutte le furie e perciò bisognava far presto, in modo da giungere in tempo in un luogo e nell'altro. Tutte queste considerazioni lo persuasero ad abbreviare la strada, prendendo per la corte, giacché di tutti quei passi formano della cittadina, era pratico come delle proprie dita. Prender la corte significava andar là quasi senza strada, lungo deserti muri di cinta, scavalcando magari tratto tratto gli steccati delle proprietà altrui e lasentando i cortili dietro le case, dove, è pur vero, chiunque lo conosceva e tutti gli si dimostravano amici. Seguendo questo percorso, poteva sboccare sulla via grande due volte più vicino alla meta. A un certo punto si trova perfino a passare a brevissima distanza dalla casa del padre e precisamente rasente il giardino che confinava con quello paterno e apparteneva a una decrepita, sgangherata casupola con quattro finestre. La padrona di questa casupola era, come Aglioscia sapeva, una mescianca della città, una vecchietta dalle gambe impedite che viveva insieme con la figlia, già evoluta cameriera alla capitale, la quale fino a poco tempo addietro era passata dalla casa di un generale all'altra e da un anno a questa parte, data la malattia della vecchia, era tornata a casa sua, cui faceva gran sfoggio di abiti sciccosi. Cotesta vecchia e la figliuola erano cadute però nella più squalle da miseria e saranno ridotte a recarsi come vicine alla cucina di Fiodor Paolovic per la minestra e il pane quotidiani. Marfa Ignatevna gliene dava di cuore, ma la figliuola che veniva a prendere la minestra dei suoi abiti non ne aveva venduto nessuno e uno ce ne aveva addirittura con lunghissimo strascico. Quest'ultimo particolare era venuto all'orecchio di Ayosha in modo del tutto occasionale per tramite del suo amico Rachitin, al quale decisamente era nota ogni minima cosa della cittadina e, come gli era venuto all'orecchio, così naturalmente gli era subito caduto di mente. Ma in questo momento, giunto al livello del giardino della vicina, gli risolvenne proprio di quel tale strascico. Alzò di scatto, chino come era in meditabondo, la testa e, si trovò di fronte a bruciapelo, chi non si sarebbe mai aspettato. Dietro allo steccato del giardino, tenendosi ritto su qualche cosa, stava lì, sporgendosi in fuori con tutto il petto, suo fratello, Dmitri Piodorovic, e disperatamente gli faceva segno con le mani, lo chiamava e lo invitava a sé, in un evidente timore non solo di gridare, ma perfino di dire una parola ad alta voce, che non lo udissero. Ayosha senz'altro corse allo steccato. «Fortuna che da te hai girato gli occhi, se no mancava un capello che ti dessi voce», vietamente ai confretta gli bisbigliò Dmitri Piodorovic. «Arrampicati qua, lesto! Che bellezza che tu sia venuto! Io stavo pensando proprio a te». Ayosha era anche lui tutto contento. Non sapeva soltanto come fare a scavalcarlo steccato, ma Mitia con la sua mano da bogatri lo afferrò per il gomito e lo aiutò nel salto. Tirandosi sulla sottana, Ayosha saltò di là con l'agilità di un monello scalzo dai bassi fondi. «Oh, ora sì che va bene, andiamo!» in un sussurro esultante proruppe Mitia. «E dove?» Ayosha sussurrò anche lui guardandosi in giro da tutti i lati e vedendosi attorno soltanto a un giardino completamente deserto dove, eccettuati loro due, non c'era anima viva. Il giardino era piccolo, ma la casupola della padrona destava pur sempre da loro una cinquantina di passi. Ma qui non c'era nessuno. «Perché parli così a bassa voce?» «Perché parlo a bassa voce?» «Che il diavolo mi porti!» di colpo esclamò Dmitri Piodorovic a bossa spiegata. «Perché parlo a bassa voce?» «Infatti!» «Cosa vuoi?» «Lo vedi da te!» «Come a volte tutta un tratto si scateni il più gran putiferio del mondo!» «Quà io ci sto per un segreto e vado a mantenerlo!» La spiegazione? A dopo. Ma investito di questa idea, che di un segreto si tratta, d'improvviso mi sono messo a parlare segretamente e a bisbigliare come uno scimunito, mentre invece non ce n'era alcun bisogno. Andiamo! Ecco, laggiù, fino a quel punto là! Sta zitto!» «Pigliarti a baci!» «M'andrebbe!» «Gloria al creatore nel mondo!» «Gloria al creatore in me!» «È una cosa che proprio ora, prima che arrivassi tu, ripetevo stand bene qua!» «Il giardino poteva avere una grandezza d'un ettaro o poco più, ma era piantato d'alberi solo all'ingiro, lungo i quattro lati, e c'erano meli, aceri, tigli, betulle. Il mezzo del giardino era vuoto. Ci si stendeva un prato, di dove si poteva falciare, l'estate, forse un quintale di fieno. Il giardino veniva dato in affitto dalla padrona, a primavera, per una piccola somma. C'erano anche aiuole di lamponi, di ribes, d'uva spina, sempre torno a torno ai recinti, e piccoli riquadri di verdura più da presso alla casa, avviati però di recente. Dmitri Fiodorovic condusse l'ospite nell'angolo più lontano della casa. Là, d'improvviso, tra mezzo al folto dei tigli assiepati e dei vecchi cespugli d'uva spina e di sambuco, di viorno e di lì là, si scoprì come il rudere di un antichissimo chiosco verde, annerito e faticenti, con le pareti a gratiscia, ma col tetto sano, cosicché era ancora possibile liperarcisi dalla pioggia. Il chiosco era stato costruito Dio sa quando, si diceva cinquant'anni prima, da chi a quei tempi era padrone della casupola, certo Alexander Karlovich von Schmitt, tenente colonnello a riposo. Ma ormai sarà tutto imporrito, il pavimento era marcito, le assi traballavano, il legname mandava un tanfo di fradicio. Nel chioschetto c'era un tavolo di legno verde, piantato in terra, e giro a giro correvano delle panche, ugualmente verdi, sulle quali era ancora possibile star seduti. Subito Agiosha aveva notato lo stato d'esaltazione del fratello, ma entrando nel chiosco, vide sul tavolaccio, vuoto e a mezzo, una bottiglia di cognac e un bicchierino. Ecco cognac, scoppiò a ridere Mitia, e tu già sbarri gli occhi. Di nuovo fai l'ubriacone? Non credere a un fantasma, non credere alla follia falsa e vana, dimentica, dimentica i tuoi dubbi. Non faccio l'ubriacone, io mi do un po' di scianto, come dice quel porco del tuo orachiti, che diventerà consigliere di stato, e ancora continuerai a dire, mi do un po' di scianto. Sediti, sento una voglia di prenderti Agiosha e di serrarti al petto, ma sai, da levarti il fiato, perché in tutto il mondo questa è la verità vera, la verità vera. Sentimi bene, sentimi bene, io voglio bene a te solo. Aveva pronunciato quest'ultima frase quasi in una specie di furore. A te solo, e poi anche a una vigliacca, che mi ha fatto innamorare, e questa è la rovina mia. Ma innamorarsi non significa già voler bene, innamorarsi ci si può anche odiando, tienilo la mente. Profitta che adesso parlo di buon umore. Sediti, ecco qua, al tavolino, e io mi porrò qua, di fianco, e terrò gli occhi a te, e dirò tutto. Tu starai sempre zitto, e io dirò tutto, giacché la scadenza è arrivata. Ma sai, però, avevo pensato che bisognava davvero parlare in sordina, per il fatto che qui, qui potrebbero star tese certe orecchie che non ti aspetti. Spiegherò tutto, l'ho già detto il seguito, a dopo. O perché bruciavo di vederti e ti bramavo tanto, un momento fa. Tutti questi giorni passati, è un momento fa. Io, qua sono già cinque giorni che ho gettato l'ancora. Tutti questi giorni, sì. Perché a te solo dirò tutto. Perché è necessario. Perché tu mi sei necessario. Perché domani io farò un volo giù dalle nubi. Perché domani la vita avrà fine e avrà principio. Hai mai provato tu, in sogno, quando dall'alto si precipita in un burrone. Ebbene, così ora io, fuori di sogno, farò il mio volo. E non ho mica paura. E anche tu, non aver paura. Cioè, paura ne ho, ma mi riesce soave. Non soave, cioè, ma una specie di esultanza. Ma via, al diavolo tutto, poco importa. Sia come sia. Spirito forte, spirito debole, spirito di femminetta, sia come sia. Esaltiamo la natura. Vedi quanto sole, il cielo come puro, le foglie tutte verdi, l'estate è ancora al colmo. Saranno le quattro del pomeriggio. Silenzio ovunque. Dove stavi andando. Stavo andando da nostro padre, ma prima volevo passare da Caterina Ivanovna. Da lei e da nostro padre. Ma guarda che coincidenza. Ma non sai dunque perché io ti invocavo, perché ti desideravo, perché avevo fame e sete di te, di tutti gli anfratti dell'anima e fin dai precordi? Per mandarti appunto da nostro padre. E poi anche da lei, da Caterina Ivanovna. E in questo modo farla finita sia con lei, sia con nostro padre. Mandarci un angelo. Avrei potuto mandarsi una persona qualsiasi, ma io avevo bisogno di mandarci un angelo. Ed ecco che tu, per conto tuo, sei diretto da lei e da nostro padre. Proprio davvero volevi mandarsi me? Con un'espressione dolorosa sul viso sfuggì detto ad Aglioscia. Basta, tu lo sapevi. E vedo che hai tutto inteso al volo. Ma taci, per ora, taci. Non compatirmi e non piangere. Dmitri Fiodorovic si levò, restò un momento solo a pensiero e si pose il dito sulla fronte. È stata lei a chiamarti. Ti ha scritto lei una lettera o qualcosa di simile una volta che tu andavi a trovarla. Altrimenti si potevi mai andare. Ecco il biglietto. E già Aglioscia se l'era cavato di tasca. Mitia rapidamente lo scorse con gli occhi. Tu sei venuto a passare per le corte. Oh, dè. Grazie a voi che l'avete guidato così per le corte e me lo avete fatto cadere in bocca, come il pesciolino d'oro della favola al vecchio pescatore Balorto. Ascolta, Aglioscia, ascolta, fratello. Ormai io ho intenzione di dir tutto, già che a qualcuno bisogna pur parlarne. A un angelo del cielo l'ho già detto, ma bisogna che lo dica anche a un angelo di questa terra. Tu sei un angelo di questa terra. Tu mi starai a sentire, giudicherai e perdonerai. E io di questo ho bisogno. Che qualcuno ben in alto mi perdoni. Ascolta, se due esseri tutto a un tratto si strappano ad ogni terrestrità e spiccano il volo per l'inconsueto, o se almeno uno di essi, anche prima di questo, alzandosi a volo rotolando in basso, viene dall'alto e gli dice, fammi questo e quello, cose tali che non si osa mai chiedere a nessuno, ma che si possono chiedere giusto sul letto di morte. Ebbene, forse che quello non accetta di fargliele. Sei un amico, sei un fratello. Io sono pronto, ma dimmi di che si tratta. Dimmelo senza perdere tempo, rispose Aglioscia, senza perdere tempo. Non aver fretta, Aglioscia. Tu hai fretta e stai agitato. Ormai non mette conto di affrettarsi. Ormai il mondo ha infilato una nuova strada. Eh, Aglioscia, peccato che tu non sia arrivato a innalzarti fino al tripudio. Ma, questo a parte, che cosa chiederò io a quell'uomo? A questo tu non ci sei mica arrivato. E io, per di giorni, che dico, nobil sia l'uomo. Di chi è questo verso? Aglioscia risolse di aspettare. Aveva capito che forse tutto il da fare era adesso, in realtà, soltanto qui. Mithia rimase un minuto pensieroso, puntellando il gomito sul tavolo e appoggiando la testa al palmo della mano. Entrambi tacevano. Lescia, disse Mithia, tu solo sei capace di non riderne. Io avrei voluto cominciare, la mia confessione, con l'inno alla gioia di Schiller, Handi Freude. Ma di tedesco non ne so niente. So quell'Handi Freude e basta. Non credere, però, che sia l'ubriachezza a farmi ciarlare. Non è davvero l'ubriachezza. È cognac, è cognac. Ma per me ce ne vogliono due bottiglie per farmi ubriacare. E via un sileno dalle rosse corna indosso a un asinello incespicante. Mentre io neppure un quarto di bottiglia ne ho bevuto. E non sono sileno. Non sono sileno, ma sono sereno. Da chi ho pigliato la mia risoluzione per sempre. Tu perdonami il Kalembur. Già molte cose oggi ma hai da perdonare, altro che un Kalembur. Non ti impazientire. Io non voglio tirarle in lungo. Ti dirò quanto è indispensabile. E in un lampo vengo al sodo. Non starò a tirar su le parole col cavatappi. Aspetta, come dice. Sollevò il capo, riflette un poco ed improvviso con trasporto cominciò. Nudo e pavido, abitava fra i dirupi il troglodita ed il nomade vagava per le piane senza vita. Cacciator torvi correvano per le selve coi lor strali. Guai a chilonde travolgevano sopra i lidi inospitali. Dall'Olimpo, ecco, discese c'era armadre e ricercando la proserpina. E a lei si stende il deserto miserando. In un angolo ove posi, alla dea quel mondo porge. Non di sensi religiosi. Pegno, un tempio vi si scorge. Non brillar di frutti agresti, né divini, né simposi. Fuman solo atroci resti degli altari sanguinosi. Ed ovunque il guardo gira, tutto intorno la dea afflitta, degli uman la schiatta mira, così abietta ed erilitta. Singhiozzi prorupperò dal petto di Mitia ed afferò agli oscia per la mano. Amico, amico mio, nell'abiazione anche adesso. È terribile quante cose l'uomo debba soffrire sulla terra, quante sventure gli tocchino. Non credere che io non sia altro che uno sguattro in divisa da ufficiale che ingolla cognacche e fa disordini. Io, fratello, solo a questo si può dire, tengo il pensiero. A quest'uomo nell'abiazione, salvo che io non sia un mentitore. Voglio a Dio che ora io non menta e non incensi me stesso. Apposta medito su quest'uomo, perché sono io stesso un uomo simile. Affinché da tue bassezze l'uomo avesse il fin riscatto con l'antica madre terra e gli strinse eterno patto. Se non che, ecco dov'è il problema. Come potrò io stringere con la terra un patto eterno? Io non abbraccio la terra, non ne squarcio il seno. O forse dovrei farmi contadino o pastore? Io vado innanzi e non so se ho preso la via delle lordure e delle infamia, oppure della luce e della gioia. Ecco il guaio dov'è. È che tutto a questo mondo è un enigma. E quando mi è capitato d'ingolfarmi proprio nella più nera infamia del vizio, e a me solo questo è capitato, ogni volta mi veniva fatto di ricorrere a questa poesia succedere e il genere umano. Mi giustificava forse? Mai più. Il fatto è che io sono un Karamazov. Il fatto è che seppure precipitassi giù nell'abisso, anche allora così a capofitto e con le piante in aria, sarei contento di star cadendo proprio in quell'umiliantissima posizione e ci troverai per me della bellezza. Ed ecco che appunto in tanta infamia, d'improvviso, io, da principio a un inno, che io sia dannato, che io sia abietto e vile, ma che anch'io baci l'orlo di quel manto in cui si avvolge il mio Dio, intanto sulle orme del demonio, ma tuttavia son tuo figlio, o Signore, e ti amo, e mi invade quella gioia senza la quale il mondo non può sussistere. Ogni anima creata, gioia eterna dà alimento, e il vital nappo dilata con l'arcano suo fermento. Essa a luce l'erba guida, su dal caos gli astri formò, e nell'etere che sfida ogni sguardo li lanciò. Al gran seno di natura gioia sugge quanto spira, ogni popolo e creatura coi suoi passi quella attira. A noi, amici delle pene, Elieo e le grazie dà, agli insetti, la lor venere, a Dio innanzi, Angelo sta. Ma basta coi versi. Mi sono venute le lacrime, e tu lascia un po' che pianga. Ammetto che sia una stupidaggine, di cui tutti riderebbero, ma tu no. Vedo che anche tu hai gli occhi lustri. Ma basta coi versi. Ora voglio parlarti degli insetti. Ecco, di quelli a cui Dio ha fatto dono della volutà. Agli insetti la lor venere. Io, fratello, non sono altro che un insetto di questi. È la cosa pardetta su misura per me. E noi altri, Karamazov, siamo tutti così. E anche in te, Angelo, questo insetto vive. E dentro al sangue ti cova burrasche. Burrasche sono, perché la libidina è una burrasca, peggiore di qualsiasi burrasca. La bellezza. Che tremenda e orribile cosa. Tremenda, perché è impossibile definirsi. E definire non si può, perché Dio non ci ha proposto che enigmi. Lì gli opposti si toccano. Lì tutte le contraddizioni vivono insieme. Io, fratello, sono tutt'altro che colto. Ma ho molto riflettuto su questo. È terribile quanti misteri. Troppi enigmi opprimono l'uomo su questa terra. Risolvili come puoi e cavati fuori asciutto dall'acqua. La bellezza. Quel che io non posso sopportare è che un uomo magari nobile di cuore ed ingegno elevato cominci con l'ideale della Madonna e finisca con quello di Sodoma. Ancora più tremendo è che qualcuno che ha già nell'anima l'ideale di Sodoma non rigetti neppure l'ideale della Madonna e ne arda in cuor suo, sinceramente, sinceramente ne arda, come nei giovani anni innocenti. No, vasto davvero è l'uomo, fin troppo vasto. Io lo restringerei. E il diavolo solo poi sa che razza di cosa sia. Ecco che ti dico. Ciò che alla ragione si presenta come abominevole per il cuore, né tanto né quanto, è bellezza. In Sodoma c'è dunque la bellezza? Credi a me che proprio in Sodoma essa risiede per la maggioranza degli uomini. non conoscevi tu questo segreto? Il terribile è che la bellezza non è soltanto una cosa tremenda, ma anche misteriosa. Qui il diavolo lotta con Dio e il campo di battaglia sono i cuori degli uomini. Ma già si sa, la lingua batte dove il dente duole. Ascoltami, adesso vengo proprio al nocciolo. Confessione di un cuore ardente in aneddoti. Io laggiù facevo una vita di disordini. Poco fa nostro padre parlava di carte da mille che avrei sborsato per sedurre delle ragazze. Questa è una fantomatica maialeria e nulla di simile è mai accaduto. Quanto a quel che c'è stato sono cose per cui di denaro propriamente non ce n'era bisogno. Per me il denaro è un accessorio, un riscaldamento dell'anima, una specie di arredamento. Oggi ecco qua. Ho tanto di dama. Domani al posto suo una ragazzetta di strada. L'una e l'altra le faccio divertire e il denaro l'ho getto via a manciate. Musica, barahonda, zingare. Se ci vuole ne do anche alla ragazza. Già che arraffano, arraffano con furore. Bisogna riconoscerlo questo e così sono tutte contente e piene di gratitudine. Le signorine mi volevano bene. Non tutte, ma ce n'era, ce n'era. Io però preferivo sempre i vicoletti, i morti oscuri vicoletti ciechi, di dietro alla piazza. Là potevano capitare gli incidenti, le sorprese, le pepite d'oro tra il fango. Io, fratello mio, parlo allegoricamente. Là dove si stava, in quella cittaduzza, vicoletti del genere materialmente non ce n'erano, ma dei morali ce n'era. E se tu fossi quel che sono io, capiresti cosa significano quest'ultima. La dissolutezza mi piaceva e mi piacevano anche le ignominie della dissolutezza. Mi piaceva ad essere crudele. Forse sono una cimice. Non sono un malo insetto. È belle detta, sono un Karamazov. Questa volta ci fu un picnic. Mezza città ci andò con sette tiri a tre. Così, al buio d'inverno, nella slitta, io cominciai a stringere la mano di una ragazza che mi stava vicino e piegai ai miei baci la ragazza, che era figlia di un impiegato, povera, gentile, mite, timida. Mi permise molto in quel buio. Credeva poverina che l'indomani sarei andato a casa sua e avrei chiesto la sua mano. E me, sai, apprezzavano soprattutto il fidanzato. E invece io dopo quel giorno non le dissi più una parola. Per cinque mesi non una mezza parola. Ma accorgevo che da un angolo della sala quando si dava qualche ballo e da noi, sai, anche tu se ne danno dei balli, i suoi occhi mi seguivano. Ma accorgevo della fiammella che ci brillava dentro una piccola fiammella di mita indignazione. E questo gioco solleticava la libidina di insetto che io nutrivo dentro di me. In capo a cinque mesi essa si meritò a un impiegato e partì. In collere forse ancora innamorata, chissà. Ora vivono insieme felici. Guarda che io non l'ho detto a nessuno. Non ne ho mica benato vanto. Sono basso, sì, nelle mie cupidigie. Della bassezza mi compiaccio. Ma non sono senza onore. Tu arrossisci. Gli occhi t'hanno scintillato. Basta con l'intrattenerti su questo fango. E tutto questo non è ancora niente. Sono fiorellini alla Paul de Coq. Benché già allora l'insetto crudele fosse cresciuto, se fosse già sviluppato nell'anima. Ci sarebbe, fratello, un intero album di ricordi che il Signore le protegga, povere care. io quando la troncavo cercavo di non litigare. E non una volta che le abbia tradite, non una volta che abbia diffamato qualcuna. Ma basta adesso. Forse tu hai pensato che per queste bagatelle è nient'altro. Io t'abbia chiamato qui. No, ho ancora una cosa assai più interessante da raccontarti. Ma non ti stupire se non sento vergogna di te. Anzi, direi addirittura che sento come una contentezza. Tu dici così perché io sono diventato rosso. D'improvviso rilevò Yosha. Non è per i tuoi discorsi che sono diventato rosso e neppure per le tue azioni. È perché anch'io sono tale quale a te. Tu? Oh via, sei andato un pochino fuori centro. No, tutt'altro che fuori centro. Con calore proruppe Yosha era evidente che questo pensiero da un pezzo gli lavorava dentro. Gli stessi precisi gradini io sto sul più basso e tu in cima poniamo sul tredicesimo. Così mi pare che stiano le cose. Ma la sostanza è una sola perfettamente identica per tutte e due. Chi ha posto piede sul primo gradino non importa. Infallibilmente salirà anche su quello che viene dopo. Dunque bisognerebbe non porci il piede affatto. Per chi è possibile? Non porci il piede affatto. E per te è possibile? Direi di no. Taci Yosha taci fratellino mi viene voglia di baciare la tua mano cara così dalla commozione. Quella canaglia di Grushenka se ne intende degli uomini. Una volta mi ha detto mi ha detto che lei prima o dopo ti avrà fra le grinfie. Non parliamone più non parliamone più dalle turpitudini da questo cantone bruttato di mosche passiamo alla mia tragedia a un altro cantone bruttato di mosche voglio dire da ogni sorta di bassezze. Vedi il fatto è che il vecchiaccio ha farneticato sì di quella corruzione di innocenti ma realmente nella mia tragedia questo c'è stato seppur una volta sola e anche quella senza nulla di effettivo il vecchio che mi ha rinfacciato quella favoletta questo affare invece non lo sa a nessuno l'ha detto mai sei tu il primo a cui sto per dirlo eccettuato Ivan si intende Ivan sa tutto da un pezzo lo sa ma Ivan è una tomba Ivan? una tomba? Sì a le osce era tutto teso in ascolto sai in quel battaglione lì di linea sebbene avessi il grado di alfiere ma ero pur sempre come sotto sorveglianza quasi una specie di forzato la cittaduzza però mi faceva le migliori accoglienze denari ne buttavo a bizzeffe mi credevano ricco e anch'io credevo di esserlo ma del resto doveva esserci qualche altra cosa che mi procacciava la loro simpatia se anche tentennavano la testa in realtà poi mi volevano bene il mio tenente colonnello uomo in età avanzata improvviso mi prese a malvolere mi cincischiava in tutti i modi ma io il mestier mio lo conoscevo eppure avevo la città intera a favore e farmi le pulci non era tanto facile un po' di colpa la avevo anch'io che ero il primo a non volergli rendere il dovuto rispetto facevo il superbo questo vecchio tutto d'un pezzo che era tutt'altro che cattivo ed era la più cordiale ospitale persona del mondo aveva avuto due mogli morte entrambe una la prima era una donna semplice che gli aveva lasciato una figlia semplice anche quella era a quell'epoca una zitella di 24 anni e viveva col padre insieme con una sua zia sorella della povera mamma la zietta era di una semplicità senza parole e la nipote la figlia maggiore del tenente colonnello era di una semplicità imperterrita mi piace da che ne sto parlando dire di lei una buona parola non ho mai conosciuto agli oscia mio una donna di carattere più amabile di quella agafia si chiamava figurati un po' agafia ivanovna e poi era anche tutt'altro che brutta nel gusto russo alta ben in carne prosperosa con due occhi bellissimi il viso magari un po' glossolano non si era maritata benché avesse avuto due richieste le aveva respinte e non aveva perso l'allegria io strinsi rapporto con lei non dico mica in quel senso no no qui non c'era nulla di male così da buoni amici parecchie volte vedi con le donne io ho stretto rapporto nella più perfetta innocenza da buoni amici chiacchieravo con lei di certe cose così intime che ma quella si rideva e basta a molte donne la franchezza piace tienilo a mente ma questa pergiunta era giovinetta e la faccenda mi divertiva un mondo e poi sai un'altra cosa non ci sarebbe stato verso di ravvisare in lei una signorina vivevano in casa del padre lei e la zia in un certo modo come se di loro propria volontà si tenessero in basso senza stare a gareggiare con tutte le altre di loro conoscenza a lei tutti volevano bene e a lei ricorrevano zecchiera una sarta abilissima aveva talento non pretendeva compensi lavorava per proprio gusto e soltanto se le facevano qualche regalo non lo rifiutava il tenente colonnello lui era un altro paio di maniche il tenente colonnello era uno dei primi personaggi lì del posto viveva alla grande dava ricevimento a tutta la città cene balli quando ero arrivato io ed ero entrato nel battaglione tutta la cittaduzza era piena della voce che fra poco sarebbe arrivata dalla capitale la seconda figlia del tenente colonnello arcibella fra le belle uscita allora da un aristocratico collegio della capitale questa seconda figlia è appunto Caterina Ivanovna in persona sua madre era la seconda moglie del tenente colonnello e questa seconda moglie morta ormai era di una famiglia cospicua non ricordo di quel generale sebbene da quanto so da fonte degna di fede denaro al tenente colonnello non gliene avesse portato affatto neppure lei aveva della razza insomma ma punto lì e forse delle speranze c'erano state ma in moneta sonante un bel nulla eppure quando giunse di collegio la ragazza con l'intenzione di trattenersi un po' non per sempre la cittadina intera sembra rimettersi al nuovo e le più illustri signori locali due moglie d'eccellenza una colonnellessa e tutte tutte le altre appresso se la presero subito a cuore e chi la tirava da una parte e chi dall'altra e via a farla divertire reginetta dei balli dei picnic rafforzarono perfino dei quadri plastici a beneficio di non so quali istitutrici io zitto io al solito a far baldoria e intanto venivo preparando un tiro che tutta la città ne andò a so quadro ero accorto che una volta mi aveva misurato un'occhiata in casa del comandante di batteria ma io non l'avevo avvicinata come a dire che non mi curavo di conoscerla le avvicinai di lì a parecchio tempo in un altro ricevimento e le rivolsi la parola mi guardò appena e sprezzantemente serrò le labbra aspetta dico allora fra me me ne vendicherò io e me saltava fuori a nudo in quei momenti l'ufficialaccio venuto su dalla gavetta ed ero il primo io a sentirlo e quel che sentivo soprattutto era che questa catenca non era già una candida collegiale qualsiasi ma una personalità ben definita piena d'orgoglio realmente onesta e quel che più conta dotata di intelligenza e di cultura mentre in me non c'erano né l'una né l'altra tu crede che io volessi chiederle la mano ma neanche per sogno volevo semplicemente vendicarmi del fatto che io fossi un giovanotto di quella tempra e lei non se ne desse per intesa e intanto giù coi bagordi con le chiassate finì che il tenente colonnello mi diede tre giorni d'arresti ora proprio in quel tonno di tempo nostro padre mi aveva spedito 6.000 rubli avendogli io inviato formale rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto sul patrimonio sì che noi dovevamo considerarci pari e patta e io non avrei più affacciato nessuna pretesa non ne capivo mica niente allora io fratello fin quando non son venuto qua e anzi fino a questi ultimissimi giorni non ne ho capito niente di tutti questi contrasti di interesse fra me e nostro padre ma al diavolo questo se ne parlerà dopo il fatto è che allora dopo aver ricevuto cotesto denaro fu informato in modo positivo da una letterina ad un conoscente di una cosa interessantissima per me e cioè che il nostro tenente colonnello non rispoteva la fiducia dei superiori che era sospettato di malversazioni insomma che i suoi nemici gli stavano preparando una salsa coi fiocchi e infatti sopraggiunse il comandante di divisione e gli diede una di quelle ramanzine da atterrare un uomo quindi di lì a poco fu collocato a riposo io non starò a raccontarti come andò la faccenda per filo e per segno certo nemici ne aveva realmente fatto sta che di improvviso si determinò in città una straordinaria freddezza verso di lui e i suoi di famiglia fu come se tutti di improvviso si squagliassero e a questo punto venne ad effetto il primo dei miei tiri mi imbatto in agafia Ivanovna con la quale mi mantenevo sempre in buoni rapporti e le dico dunque al vostro babbo 4500 rubli del reggimento mancano in cassa che mi fate sentire perché dite così di recente è venuto il generale e c'erano tutti in perfetta regola allora c'erano ma adesso non più si spaventò tremendamente non mi spaventate per carità da chi le avete sentito dire non vagitate le faccio io non dirò niente a nessuno eppure voi lo sapete che in questa materia io sono una tomba ma ecco che volevo aggiungere in proposito non peraltro ben inteso che in vista di qualsiasi evenienza quando chiedessero al babbo cotesti 4500 rubli ed egli non ne disponesse sicché si tratterebbe di andare sotto processo e voi subire così invecchiaia la degradazione voi potreste mandare a casa mia segretamente la vostra collegiale che mi è arrivato proprio ora del denaro e sarò io a consegnarle la somma e rispetterò la santità del segreto ah fece lei che vigliacco siete disse proprio così che razza di vigliacco non so come vi permettiate andò via terribilmente indignata e io appresso le gridai un'altra volta che il segreto sarebbe stato osservato come una cosa sacra e inviolabile tutte e due quelle povere donne intendo Agafia e la zia dirò subito che in tutta questa storia si comportarono veramente da angeli quella superba della sorella Katia era adorata da loro e si umiliavano ai piedi erano le sue cameriere subito Agafia va e le riporta il mio tiro ossia il colloquio che avevamo avuto e un seguito seppi tutto per filo e per segno non le tenne nascosto nulla e per me tu capisci proprio questo ci voleva di colpo arriva un maggiore nuovo a prendere il comando del reggimento ne prende il comando il vecchio tenente colonnello cade ammalato non può più muoversi per due giorni rimane in casa e non consegna la somma che deve essere in cassa il nostro dottore Kravacenco assicura che la malattia era reale ecco però quanto a me risultava irrefragabilmente da confidenze segrete e già da un bel pezzo la somma dopodiché i superiori l'avevano controllata ogni volta erano ormai quattro anni di fila spariva per un certo periodo di tempo la affidava il tenente colonnello a un tale di sua completa fiducia un commerciante di lì il vecchio vedovo Trifonov un barbone con gli occhiali d'oro costui se ne partiva per la fiera investiva quel denaro nelle sue speculazioni poi restituiva immediatamente al tenente colonnello l'intera somma e in sovrappiù gli portava dalla fiera i suoi regalucci e quei regalucci i suoi bravi interessi se non che questa volta io venne a saperlo in modo affatto casuale da un ragazzo da quel bavoso del figlio di Trifonov non che suo erede il ragazzazzo più lazzarone che abbia mai visto al mondo questa volta dicevo Trifonov ritornando dalla fiera non aveva portato indietro niente il tenente colonnello si era precipitato da lui io non ho mai avuto nulla in consegna da voi e non avrei potuto prendere nulla in consegna ecco la risposta figurati il nostro povero colonnello si chiude in casa s'avvoltola la testa in un asciugamano e tutte e tre quelle donne già a mettergli il ghiaccio sul cranio quando ad improvviso si presenta un soldato con un libro e con l'ordine di versare subito su due piedi la somma in cassa tempo due ore lui aveva acquitanzato il rendiconto io l'ho vista più tardi nel registro quella firma si era tirato su aveva detto che andava a indossare la divisa si era rinchiusa in camera sua aveva afferrato il suo fucile da caccia a due canne ci aveva ficcato una pallottola da moschetto si era sfilato dal piede destro alla scarpa si era puntato il fucile contro il petto e col piede annaspava per trovare il grilletto ma a gaffia già insospettita rammentandosi di quelle mie parole di soppiato si era appressata ed era riuscita ad adocchiarlo in tempo di scatto gli si era slanciata alle spalle l'aveva stretto fra le braccia e il colpo era andato in alto al soffitto nessuno era rimasto ferito erano accorsi gli altri di casa gli avevano strappato il fucile lo avevano tenuto fermo per le braccia tutto questo io l'ho saputo più tardi in ogni particolare allora me ne stavo in casa era sull'annottare e avevo deciso da poco di uscire mi ero vestito pettinato avevo profumato il fazzolettino e avevo appena calzato il berretto quando a un tratto s'apre la porta ed eccomi innanzi in casa mia Caterina Ivanovna si danno dei casi strani nessuno notò in strada quella sera che lei fosse entrata in casa mia di modo che in città la cosa passò inosservata io poi stavo in affitto presso due vedove di impiegati vecchi e decrepite che avevano per me di gran premura ed erano donette rispettose mi davano ascolto in tutto sì che quando io glielo raccomandai sebbarano tutte e due il silenzio come due cariati di di bronzo lei venne avanti e mi guardava fissa quegli occhi scuri avevano uno sguardo risoluto perfino insolente ma sulle labbra ecco c'era un'irresolutezza mia sorella mi ha detto che voi avreste dato 4500 rubli se fossi venuta a chiederli io stessa in casa vostra io sono venuta date il denaro scattò ne mancò il respiro restò sgomenta la voce le si spezzò e gli angoli delle labbra e le linee a turno ebbero un tremito agli oscia ma ascolti o dormi mitia io so che tu dirai la verità fino in fondo proluppe agitato agli oscia la dirò infatti se verità ha da essere ecco come andò non mi risparmierò davvero il primo pensiero fu un pensiero da caramazos una volta fratello fui morso da una tarantola e per due settimane ne stiti a letto con la febbre ebbene anche in quel momento ecco senti come se il cuore mi avesse morso una tarantola un qualche malo insetto mi intendi la misurai con un'occhiata tu l'hai veduta è una bellezza non è vero ma non in questo senso era bella allora la sua bellezza in quel momento era data dal fatto che lei stava compiendo un'azione magnanima mentre io ero un mascalzone lei era sublimata dalla sua grandezza d'animo e dal sacrificio che faceva per il padre mentre io era una cimice ed ecco che proprio da me cimice mascalzone lei dipendeva tutta 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 intera anima e corpo bloccata ti parlo sinceramente quel pensiero il pensiero della tarantola mi aveva ferrato il cuore in modo che non so come non scoppiò dalla stretta si sarebbe detto che ormai neppure lotta ci sarebbe potuta essere agire senz'altro come la cimice come una cattiva tarantola senza compassione di sorta mi si mozzò perfino respiro sta a sentire io naturalmente l'indomani stesso sarei andato là a chiederla sua mano in modo da por fine a tutta la faccenda nella più nobile delle maniere e senza che nessuno quindi ne sapesse o potesse mai saperne niente perché io non è vero sono un uomo di basse cupidige sì ma che ha il senso dell'onore quando ecco di improvviso in quello stesso istante una voce soffiarmi all'orecchio ma sai questo è un tipo che domani quando tu ti presenterai con la proposta di matrimonio non ti si mostrerà neppure e ordinerà il cocchiere di scacciarti via diffamami pure penserà per la città intera non ti temo ti ha di un'occhiata alla ragazza la voce non mi aveva mentito così senza dubbio così sarebbe avvenuto io sarei stato portato fuori per la collottola già dal viso che aveva ora si poteva giudicare mi riboli dentro la rabbia e mi venne voglia di tentare il più vile il più maialesco e mercantesco dei tiri darle una sbirciata beffarda e lì su due piedi intanto che la avevo di fronte sbigottirla con una di quelle intonazioni che solo un mercantino può usare voi mi parlate di quattromila rubli ma io ho detto per scherzo che cosa credete troppo alla leggera signora ci avete fatto conto fino a un paio di cento magari ci arrivo ben volentieri ma quattromila non sono mica una somma signora mia da dar via così senza rifletterci vi siete volute scomodare inutilmente vedi io in questo modo avrei in fondo perduto tutto e lei se ne sarebbe andata ma in compenso sarebbe riuscita una vendetta infernale che mi avrebbe ricompensato di tutto avrei gemuto poi tutta la vita dal rimorso ma non importa perché ora avessi potuto azzeccare questo colpo credi che non m'era capitato mai con nessuna con nessuna donna di guardarla in un minuto come quello con odio eppure ti giuro sulla croce questa stetti a guardarla per 4 o 5 secondi con un odio terribile proprio con quell'odio per passare dal quale all'amore all'amore più delirante non c'è che un capello ma costai alla finestra poggiai la fronte contro il vetro ghiacciato e ricordo che la fronte mi bruciò a quel gelo come fosse fuoco non resistetti a lungo non temere mi voltai ma pressai al tavolo apersi il cassetto e cavai fuori un titolo al portatore da 5.000 rubli al 5% lo tenevo infilato nel vocabolario francese quindi senza far parola glielo mostrai lo ripiegai glielo diedi fui io ad aprirle la porta d'ingresso e discostandomi da un passo le feci un inchino profondo pieno di deferenza e di devozione puoi credermi lei fu scossa da un fremito mi guardò fissa un istante si fece terribilmente pallida sai come un panno e di colpo senza dire una parola neanche lei non d'impeto ma con una specie di mollezza si chinò tutta profondamente senza scosse e giù ai miei piedi con la fronte contro terra altro che alla collegiale alla russa balzò su e scivolò via mentre lei si allontanava io mi trovavo da presso alla sciabola io sfoderei la sciabola e mi venne voglia di sgozzarmi lì per lì per che ragione non so sarebbe stato indubbiamente una sciocchezza terribile ma certo doveva essere per l'entusiasmo non so se tu capisca come a volte per l'entusiasmo sia possibile uccidersi ma io non mi sgozzai baciai soltanto la sciabola e la riposi un'altra volta nel fodero sono tutti particolari del resto che potevo fare a meno di mentovarti già anzi mi pare che parlando di tutte queste lotte l'ho tirata un po' in lungo per vantare me stesso ma lascia lascia che sia così e vadano al diavolo tutti gli spioni del cuore umano ecco da cima a fondo il mio antico incidente con Caterina Ivanovna e così ora a conoscerlo siete tu e il fratello Ivan nessun altro Dmitri Fiodorovic si levò agitatamente fece qualche passo cavò il fazzoletto si terse dalla fronte il sudore quindi si sedette di nuovo ma non al posto di prima si sedette sulla panca di rimpetto all'altra parete così che Agiosha fu costretto a girarsi del tutto per averlo di faccia Confessione di un cuore ardente a capofitto adesso disse Agiosha so la prima metà della cosa la prima metà la intendi è un dramma e si è suolto laggiù la seconda è una tragedia e sta svolgendosi qui della seconda metà io finora non intendo nulla disse Agiosha e io dunque forse che io adesso la intendo senti Dimitri qui c'è una cosa da chierir soprattutto dimmi tu sei fidanzato le sei fidanzato anche adesso fidanzato le divenne non subito ma un tre mesi non meno dopo quel che t'ho detto l'indomani dell'accaduto io mi dissi che l'incidente era bello e finito e non avrebbe avuto alcun seguito andarla a presentarmi con la proposta di matrimonio mi sembrava un'azione meschina anche lei dal canto suo per tutte le sei settimane che passò ancora lì in città non fece saper di sé assolutamente nulla eccettuata cioè una sola circostanza che il giorno seguente a quello della sua visita mi scivolò in casa la loro cameriera e senza far parola mi consegnò un piego sul piego un indirizzo è basta a tal detali apro se era il resto del titolo da 5.000 rubli non erano corsi che 4.500 ma nel realizzare i 5.000 del titolo c'era stata una perdita di 200 e più mi mandava in tutto non ricordo se i 260 rubli e niente forché il denaro né un biglietto né una parola né una spiegazione io dentro a quella busta mi misero cercare un segno qualsiasi di matita niente ah sì mi gettai a far baldodia intanto coi rubli che mi avanzavano tanto che il maggiore nuovo fu costretto alla fine a darmi una munizione così è e il tenente colonnello aveva versato nel frattempo la montare di cassa nel più felice dei modi e con gran stupore di tutti già che nessuno ormai supponeva che il denaro si trovasse integralmente in mano sua lo versò ma subito dopo cadde malato s'allettò restò in letto tre settimane e poi un repentino ramollimento cerebrale e in cinque giorni si spense gli fu fatto un funerale con gli onori militari già che non aveva ancora ricevuto il collocamento a riposo Caterina Evanovna la sorella e la zia non appena seppellito il padre in tempo di dieci giorni partirono per Mosca ed ecco che proprio all'ultimo momento il giorno stesso che partirono io ne le avevo viste ne accompagnate ricevo una minuscola bustina azzurrognola con un foglietto smerlettato che portava una riga sola sola a matita vi scriverò aspettate K nient'altro ti spiegherò ogni cosa adesso in due parole a Mosca la loro situazione mutò con la rapidità del lampo e con la maniera sballorditiva delle favole arabe quella generalessa che era la loro parente più importante perde a un tratto in una sol volta le due più prossime eredi le due più strette nipoti tutte e due nella stessa settimana muoiono di vaiolo sconvolta dal dolore la vecchia rigioisce di Katia come d'una sua propria figlia come d'una stella salvatrice si riversa tutta su di lei rifà subito il testamento a suo favore ma questo per l'avvenire ora intanto direttamente in mano 80 biglietti da 1000 eccoti la dote cara fanne quel che vuoi era isterica la donna a Mosca poi io l'ho conosciuta or bene ecco che di punto in bianco ricevo per posta in quel torno di tempo 4500 rubli poi figurati con quale sconcerto dallo stupore rimangi senza parola tre giorni dopo arriva la lettera promessa l'ho anche adesso con me la tengo sempre con me e la terrò fino in punto di morte qualche te la mostri via la devi leggere mi offre la sua mano mi si offre da sé vamo dice pazzamente non mi importa che voi mamiate seppure basta che diveniate mio marito non temete non vi sarò d'alcun peso sarà un vostro mobile sarà quel tappeto su cui voi mettete i piedi voglio amarvi in eterno voglio salvarvi da voi stesso agli oscia io non sono degno neppure di ripetere queste righe con le mie vili parole col mio vile tono di voce col mio solito tono vile di cui non ho mai potuto disfarmi sono rimasto trafitto da questa lettera fino a oggi e forse che ora mi sento libero dall'angoscia forse che oggi mi sento libero dall'angoscia subito allora le scrissi una risposta non mi fu assolutamente possibile recarmi addirittura a mosca fra le lacrime le scrissi di una cosa sola mi vergognerò in eterno facevo parola delle ricchezze che lei aveva ora della sua dote mentre io non ero che l'ultimo degli ufficialetti facevo parola insomma del denaro avrei dovuto sorvolare su questo ma mi sfuggì dalla penna contemporaneamente scrisse subito lì a mosca a Ivan e gli spiegai tutto per lettera il più minutamente possibile era una lettera di sei pagine e incaricavo Ivan di recarsi da lei che hai che mi ha d'occhi mi fissi così ebbene sì Ivan si innamorò di lei ne hai innamorato anche ora io lo so feci una sciocchezza secondo il vostro modo di pensare il modo di pensare della gente ma chissà proprio questa sciocchezza potrebbe ora essere l'unica cosa che ci salverà tutti oh ma dunque non te ne accorgi in che considerazione essa lo tiene quanto lo apprezza potrebbe mai paragonando noi due amare uno come son io e tanto più dopo quello che è accaduto qui eppure io sono convinto che essa ama uno come te piuttosto che uno come lui è la propria virtù che ama lei e non me involontariamente ma quasi rabbiosamente sfuggì d'improvviso a Dimitri Piotrovic fece l'atto di ridere ma un istante dopo gli occhi gli scintillarono arrossì tutto e con vehemenza picchiò il pugno sul tavolo ti auguro agli oscia gridò in una violenta genuina collera contro se stesso puoi credermi o non credermi ma guarda com'è vero Dio e com'è vero che Cristo è nostro Signore ti giuro che io seppur ora ho riso dei suoi sentimenti elevati ma so bene di essere un milione di volte più in basso di lei e so bene che questi suoi nobili sentimenti sono sinceri come quelli di un angelo del cielo qui sta la tragedia che io sono perfettamente cosciente di questo che male c'è se un uomo cade un tantino nel declamatorio forse che io non sto declamando eppure sono sincero non c'è che dire sono sincero per quanto poi riguarda Ivan ti garantisco che sono il primo a capire di quanta maledizione debba sembrargli degna alla natura tanto più che poi con l'ingegno che ha a chi a che cosa vi è andata la preferenza vi è andata a un mostro che perfino qui essendo già fidanzato mentre gli occhi di tutti convergono su lui non ha saputo trattenersi dalle sue dissipatezze e questo alla presenza della fidanzata alla presenza della fidanzata e ora ecco che uno come me viene preferito e lui viene rifiutato ma per qual ragione ma per la sola ragione che la ragazza per dimostrarsi grata vuol violentare la sua vita e il suo destino follie a Ivan in questo senso io non ho detto mai nulla di nulla anche a me Ivan si intende non ha mai fatto parola in proposito né il minimo accenno ma il destino si compirà e il degno occuperà il suo posto mentre l'indegno si rimpiatterà in un vicolo per sempre nel suo vicolo melmoso nel vicolo che gli piace e che gli è adatto e là nella melma e nel fedore per irà volentieri e con piacere mi sono lasciato un po' trasportare dal discorso le parole mi sono venute a perdere della loro forza è come se le gettassi là a casaccio ma come ho definito la cosa lasciamo che resti perciò io nel vicolo e lei sposa a Ivan fratello aspetta con profonda inquietudine lo interruppe Agiosha ancora una volta c'è pur sempre non è vero una cosa che tu non mi hai spiegato finora tu sei non è vero il suo fidanzato sei il suo fidanzato pur sempre come dunque vorresti troncarla se lei la fidanzata non vuole io sono il suo fidanzato ufficialmente e con la debita benedizione fu tutto a mosca appena io ci andai con tanto di parata e di icone in forma brillantissima la generalessa mi diede la benedizione e ci crederesti si congratulò addirittura con Katia hai fatto le disse una buona scelta io gli leggo dentro da parte a parte e ci crederesti Ivan non le piacque né gli fece i suoi complimenti a mosca poi ebbe molto a conversare con Katia mi descrissi a lei tutto quanto con magnanimità esattamente sinceramente e tutto lei stette lì ad ascoltare ci furono i suavi turbamenti ci furono le tenere parole parole per essere schietti ce ne furono anche dal tere lei mi obbligò a fare in quei giorni la solenne promessa che mi sarei corretto io feci la promessa ed ecco che cosa ed ecco che oggi io t'ho chiamato e t'ho trascinato qua ricordati a quanti siamo del mese a fine di mandarti ripeto per l'appunto oggi da Katerina Ivanovna e che cosa dirle che non andrò da lei mai più mi manda a portare le dirai il suo commiato ma ti pare una cosa possibile ma appunto mando te al posto mio perché è una cosa impossibile e come potrei mai dirgliela io ma e tu dove andrai al vicoletto questo vorrebbe dire da grushenka con accento doloroso esclamò Josha battendo una mano contro l'altra ma allora Rakitin ha detto realmente la verità e io che credevo che tu andassi da lei soltanto così e avessi troncato tutto e a un fidanzato ti parlescito andar là ma ti pare una cosa possibile specialmente quando si ha una fidanzata come quella e la gente ti tiene gli occhi addosso ah il senso dell'onore non mi manca non temere dal giorno che io ho cominciato ad andare da grushenka e quell'istante ho cessato di essere un fidanzato e un galantuomo lo capisco sai perché mi guardi vedi io da principio ci andai per picchiarla avevo saputo e so ora di sicuro che appunto a lei a grushenka quel capitano in seconda uomo di fiducia di nostro padre aveva passato la cambiale a mia firma che me la protestasse in modo da tacitarmi e da togliermi di mezzo mi volevano spaventare e da grushenka io ci andai per picchiarla la avevo già veduta di sfuggita non ha un aspetto che colpisca del vecchio commerciante ne ero informato di quello che ora è malato finito che agonizza in un fondo di letto ma a lei lascerà pur sempre un rispettabile gruzzolo e sapevo che le piaceva accumular denaro che badava ad accumularne che dava in prestito con interessi usurari che era un'avventuriera una canaglia senza pietà per nessuno andai per picchiarla e lì da lei rimasi la tempesta tuonò la peste imperversò ne fui contagiato e ne sono contagiato ancora e so che ormai tutto è finito e che nient'altro ci sarà mai più il ciclo dei tempi è compiuto ecco quanto mi resta e in quei giorni di improvviso nemmeno a farlo apposta mi piovero in tasca con tutta la mia povertà tre biglietti da mille allora subito via con l'Iam Crowe a una venticinquina di miglia di qui e là procurai zigani zigane champagne e tutti quei contadini li abbeverai di champagne fino alle massaie e alle ragazze facevo correre le migliaia di rubli di lì a tre giorni tasche vuote ma fiero come un falco tu credi che avesse ottenuto qualche cosa il falco neppure di lontano mi fece veder nulla te lo dico è un'anguilla in grusci in caccanaglia c'è dell'anguilla in tutta la persona fino alla punta dei piedi fino al ditino mignolo del piede sinistro ma guardato mi ha baciato e nient'altro te lo giuro mi diceva tu vuoi che io ti sposi ma vedi tu sei povero promettimi che non mi picchierai e mi lascerai fare quel che voglio e allora chissà ti potrò anche sposare e rideva e anche adesso ride Dimitri Jodorovic in una specie di furore si levò in piedi ed improvviso fu come ubriaco gli occhi gli si erano iniettati di sangue e tu davvero puoi prenderla in moglie se lei vuole anche subito e se non vuole con lei rimorrò lo stesso alla porta di casa le farò da portiere tu tu Agiosha ed improvviso si fermò dinanzi al fratello e afferrandolo per le spalle bruscamente cominciò a squassarlo ma sai tu dunque innocente ragazzo che tutto questo è un delirio un delirio inaudito c'è che qui è la tragedia ebbene sappi Alexei che io posso essere un uomo abbietto con passioni abbiette e infami ma ladro ma tagliaborse ma ladruncolo d'anticamere Dimitri Jodorovic non potrà essere mai e allora è venuta l'ora che tu sappia che io sono un ladruncolo io sono un tagliaborse e un ladro d'anticamere giusto prima che mi racassi da Grushenka a picchiarla proprio quella mattina mi manda a chiamare Caterina Ivanovna e in gran segreto che non venisse a conoscenza di nessuno il motivo non lo so ma doveva averne le sue buone ragioni mi prega di partire per il capoluogo del governatorato e di là spedire per posta 3000 rubli ad Agafia Ivanovna a Mosca in modo che qui in città nessuno ne risapesse niente fu appunto con quelle tre carte da milla in tasca che io venni a trovarmi quel giorno da Grushenka e con quelle facemmo la gita a Macroe poi diedi a vedere che avevo eseguito quella corsa in città ma la ricevuta della posta non gliela presentai dicendole che avevo spedito il denaro e la ricevuta l'avrai portata e fino ad oggi non gliela ho portata mi è passato di mente capisci? e adesso pensa un po' tu oggi ti presenti a lei e le dici mi manda a portarvi il suo commiato ma poniamo che lei ti risponda e quei denari almeno potessi dirle è un abietto lussurioso una vile creatura dai sensi sfrenati quella volta non spedì i vostri denari ma gli scialacquò incapace di dominarsi come un abietto animale ma questo punto tu potessi aggiungere però non è un ladro eccovi i tremila rubli ve li rimanda spediteli per conto vostro ad Agafia Ivanovna e quanto a lui ma incaricato di portarvi il suo commiato se invece adesso d'improvviso lei ti fa e dove sono i denari Mitia tu sei sventurato sì ma pure non tanto quanto tu pensi non ammazzarti da te con la disperazione non ammazzarti da te o che forse tu credi che mi sparerò se non trovo il modo di rendere quei tremila rubli qui è la questione che non mi sparerò non ne ho la forza adesso in seguito chissà ma adesso la gruscia inca devo andare e all'inferno tutto il resto ma che farai da lei sarò il suo marito mi meriterò d'averla per moglie e se verrà qualche amante me ne andrò nell'altra stanza agli amici di lei voglio pulire le calosce infangate voglio far bollire il samovar correre per commissioni caterina evanovla comprenderà tutto solennemente disse a un tratto agli oscia comprenderà bene la profondità di tutto questo dolore e si riconcilierà con te essa ha una mente elevata e non è possibile essere più infelici di te questo riuscirà chiaro a lei stessa non si riconcilierà neppure per sogno mi ti assorrise c'è qui fratello qualche cosa con cui nessuna donna potrà mai riconciliarsi sai qual è la miglior cosa da fare che cosa restituire i 3000 rubli ma dove pigliarli aspetta io ne ho 2000 Ivan ne darà anche lui un migliaio e così eccoli tutte e tre prendi e gli riridai ma per quando ci saranno i tuoi 3000 rubli tu sei ancora un bambino e un gingillone mentre invece è indispensabile assolutamente indispensabile che oggi stesso tu le porti il mio commiato col denaro o senza perché tirarle a lungo così io non posso più la faccenda è arrivata troppo oltre domani sarebbe già tardi già tardi ti voglio mandare dal babbo dal babbo sì dal babbo prima che da lei a lui chiederai i 3000 rubli ma tu Mitia sai bene non te li darà magari li desse so bene che non me li dà tu sai agli oscia che vuol dire la disperazione lo so ascolta di fronte alla legge egli non me è debitore di nulla tutto ho già avuto da lui tutto lo so ma moralmente non è vero egli è in debito con me è così o non è così non ha forse cominciato dai 28.000 rubli di mia madre e ha finito col farcene 100.000 che me ne dia 3000 soli e strapperà l'anima mia dall'inferno e sarà un'azione che gli andrà a sconto di tanti peccati e io da parte mia avute queste tre carte da mille te ne do la parola solenne la farò finita e lui non avrà più a sentire nulla di me per l'ultima volta gli porgo l'occasione di essere un padre digli che è Dio stesso che gli manda quest'occasione mitia ha nessun titolo darà nulla so bene che non darà nulla lo so perfettamente e adesso in specie come se non bastasse ecco cos'altro ho saputo adesso a fare di giorni forse in tutto da ieri lui è venuto a sapere per la prima volta in modo serio fa attenzione in modo serio che Grushenka effettivamente chissà non fa per gioco e ha una mezza intenzione di acciuffar me per marito conosce lui che carattere ha conosce che gatta è quella può mai essere dunque che mi dia per giunta anche del denaro in modo che io mi avvantaggi di un'occasione simile mentre lui è il primo ad andar pazzo per lei ma non basta neanche questo posso aggiungerti ancora dell'altro so che già cinque giorni fa ha ritirato tremila rubli li ha cambiati in biglietti da cento e li ha impacchettati in un grosso plico con cinque sigilli e sopra un nastrino rosso legato in croce vedi con che precisione so tutto e sul plico sta scritto per l'angela mia Grushenka se vorrà venire ce l'ha scarabocchiato di mano sua in solitudine e in segreto e nessuno è corrente che gli abbia con sé quel denaro eccettuato il servitore Smerdiakov nell'onestà del quale ha fiducia come in se stesso e così sono già tre o quattro giorni che sta in attesa di Grushenka sperando che per avere il plico verrà ne ha fatta informare della cosa e lei lo ha fatto informare che chissà potrebbe anche venire ma se lei venisse in casa del vecchio allora io potrei mai sposarla capisci ora perché me ne sto qui nascosto e a che cosa sto facendo la posta a lei a lei in casa di queste rificolone che sono ora proprietarie di qui c'è una stanzetta affittata a Foma Foma è uno delle nostre parti è un vecchio soldato dei nostri si presta loro per qualche servizio la notte fa il guardiano e il giorno va a tirare a galli cedroni così campa la vita lì da lui mi sono installato non è un segreto né per lui né per le padrone a che cosa sto a farla posta qui solo smerdi a Koflo sa lui solo e lui mi darebbe anche a conoscere se lei si recasse dal vecchio è lui che ti ha raccontato del plico lui si tratta di un gran segreto perfino Ivan non sa nulla né del denaro né del resto e Ivan ora a Cermashnia vuol mandarlo il vecchio a farsi un viaggetto di due o tre giorni è capitato un compratore per il boschetto offre per il taglio 8000 rubli e così il vecchio si rivolge a Ivan aiutami un po' vammici tu in che significa star via due tre giornatelle questo vuol lui che Grushenka venga mentre Ivan non c'è anche per oggi e gli aspetta Grushenka no per oggi non verrà ne ho i miei buoni indizi tutto fa credere che non verrà ruppe a un tratto mitia anche Smerdiakov è di questo parere il babbo ora si è messo a trincare sta a tavola con Ivan va Alexei va a chiedergli questi 3000 rubli mitia mio caro che ti succede esclamò Joscia balzando su e guardando il viso frenetico del fratello un istante pensò che questi fosse impazzito che ti salta in mente no non so mica fuori di cervello con uno sguardo intento e quasi triunfante proclamò Dmitri Fyodorovic non temere ti mando da nostro padre e so quel che dico io ho fede in un miracolo in un miracolo in un miracolo della divina providenza Dio conosce il mio cuore e gli vede tutta la mia disperazione tutto questo quadro egli lo vede possibile che gli permetta che si compia l'orrore Agiosha io credo al miracolo va vado tu dimmi starai qui ad aspettarmi starò qui capisco che non è una cosa sbrigativa che è impossibile presentarsi là e senz'altro paffete lui adesso è ubriaco aspetterò anche tre ore anche quattro anche cinque e sei e sette ma sappi bene che oggi fosse pure a mezzanotte tu ti presenterai a Caterina Ivanovna col denaro senza denaro e le dirai mi manda a portarvi il suo commiato io voglio che tu le dica questa frase precisa mi manda a portarvi il suo commiato Mitia e se a un tratto Grushenka venisse oggi o se non oggi domani o quell'altro giorno Grushenka la avvisterò balzerò fuori e la impedirò e in caso che allora l'ammazzerò tanto non potrai sopravvivere ma chi ammazzerai il vecchio lei non l'ammazzerò fratello che stai dicendo che vuoi non so non so forse non lo ammazzerai ma forse lo ammazzerai la mia paura che d'improvviso mi diventasse odioso proprio in quel momento odio il suo pomodadamo il suo naso i suoi occhi il suo sorriso spudorato è un'avversione per lui che io sento ecco che cosa mi fa paura e questo ecco mi impedirebbe di trattenermi io vado amiche io ho fede che Dio sistemerà tutto come gli parla meglio in modo che l'orrore non avvenga e io starò qui ad aspettare il miracolo ma se non si avverasse allora Aiosha assorto in pensieri si avviò verso la casa del padre Smerdyakov trovò davvero suo padre a tavola era questa secondo l'uso d'allora apparecchiata in salone sebbene ci fosse in casa anche una vera e propria stanza da pranzo questo salone era la camera più grande di casa mobiliata con una certa vetusta pretesa la mobilia era antiquata bianca con un vecchio damasco rosso sull'imbottitura nei tratti di parete tra una finestra e l'altra pendevano specchi in barocche cornici d'antico intaglio anch'esse in bianco e oro alle pareti tapezzate di carta bianca che in molti punti già si screpolava spiccavano due grossi ritratti quello di un certo principe che trent'anni addietro era stato generale governatore del territorio e quello di un certo arcivescovo che pure da gran tempo era passato all'altra vita nell'angolo d'entrata stavano collocate parecchie icone dinanzi alle quali al calar della sera veniva accesa una lampada non tanto per devozione quanto perché la stanza ne fosse rischiarata alla notte Fyodor Paolovic si coricava a notte assai inoltrata alle tre alle quattro del mattino e fino a quell'ora continuava di solito a camminare per la stanza o seduto in poltrona pensava tale era l'abitudine che aveva presa non di rado pernotava solo solo in casa mandando i servitori al padiglione ma più spesso rimaneva con lui a passare la notte il servitore Smerdiakov che dormiva in anticamera sopra un cassone quando entrò agli oscia il pranzo era già terminato ma avevano portato in tavola marmellata e caffè piaceva a Fyodor Paolovic in fin di pranzo alternare i dolciumi ai bicchierini di cognac Ivan Fyodorovic stava anche egli lì a tavola e anche egli stava prendendo il caffè i servitori Grigori e Smerdiakov si tenevano ritti presso la tavola tutti servitori e padroni dimostravano un'animazione palese e piena di insolita allegria Fyodor Paolovic sghignazzava e rideva forte fin dall'ingresso agli oscia aveva udito quel suo stridulo riso che conosceva tanto bene e subito dal timbro ne aveva concluso che il padre era ancora tutt'altro che ubriaco per il momento doveva essere soltanto d'umore gioviale ecco anche lui cominciò a strillare Fyodor Paolovic facendo subito gran festa ad agli oscia vieni a farci compagnia siediti prendi un caffeuccio roba di magro ma bollente ma eccellente un cognacchino non te lo offro che già tu sei estemio ma ne vuoi? ne vuoi? no ti darò piuttosto un liquoretto dolce prelibato merdiacov va alla credenza sul secondo pacchetto di destra ecco le chiavi lesto agli oscia fece per ricusare il liquore non fa niente ce lo porterà lo stesso se non lo vuoi tu sarà per noi raggiante esclamò Fyodor Paolovic ma aspetta un momento tu hai pranzato o no? ho pranzato disse agli oscia che in realtà aveva mangiato in tutto una fetta di pane e bevuto un bicchiere di kvas nella cucina del legumeno ma un po' di caffè bollente lo berrò con piacere caro il mio figliuolo bravo un po' di caffè lo prende vogliamo farlo scaldare? ma no anche così è bollente caffè prelibato di quello che fa smerdyakov per caffè e per i timballi di pesce io ho smerdyakov che è proprio un artista e per la zuppa di pesce pura bisogna essere giusti un giorno o l'altro capita qua e mangia la zuppa di pesce purché ci avvisi in tempo ma aspetta aspetta mi pare che poco fa io ti abbia ordinato assolutamente di far trasloco oggi stesso te materasso e guanciali ebbene te lo sei portato dietro il materasso no non l'ha portato sorrise anche agli osce ah ma ti sei spaventato ti sei spaventato però poc'anzi sei proprio un gran tesoro come vuoi che io ti possa far torto ascolta Ivan non posso vedere quando guarda così negli occhi e ride proprio non posso tutte le viscere mi cominciano a ridergli di rimando gran bene che gli voglio agli osce piccolo mio lascia che ti dia la mia benedizione paterna ai osce si era alzato in piedi ma Fiodor Paolovic aveva già cambiato idea no no ora basterà che io ti faccia il segno della croce ecco così siediti or bene adesso avrai da divertirti è proprio su un argomento adatto a te ne farai delle risa qui c'è l'asina di Balaam che ha parlato e le cose che dice le cose che dice l'asina di Balaam sarebbe stato il lacchè Sverdiakov uomo ancora giovane di 24 anni in tutto era costui straordinariamente misantropo e taciturno non già che fosse selvatico o che avesse vergogna di qualche cosa no che anzi era di carattere presuntuoso e sembrava disprezzare tutti ma mi accorgo che è impossibile esimersi dal dire su costui almeno due parole tanto più al punto in cui siamo arrivati allevato da Marfa Ignatevna e da Grigori Vasilievic il ragazzo era però cresciuto senza un filo di gratitudine come Grigori Vasilievic si esprimeva a suo riguardo un ragazzo selvatico che guatava tutti dal suo cantuccio negli anni infantili prendeva gran gusto a impiccare i gatti e poi a seppellirli con tanto di cerimonia funebre indossava per l'occasione un lenzuolo che avrebbe dovuto costituire una specie di paramento sacerdotale e cantava ed ondolava a mezz'aria qualche cosa sul gatto morto come se fosse un incensiere tutto questo senza chiasso nel più profondo segreto Grigori lo sorprese una volta in contesto esercizio e lo batte duramente lui si rintanò nel cantuccio e la restò con gli occhi in agguato una settimana intera non ci vuole bene a noi altri questo mostro diceva Grigori a Marfa Agnatevna e poi già a nessuno vuol bene e che sei un uomo tu si rigirava bruscamente a Smerdiakov tu non sei un uomo tu ti sei creato da quel marciume del bagno ecco chi sei tu Smerdiakov come apparve in seguito non pote mai perdonargli queste parole Grigori insegnò a leggere e scrivere e quando toccò i dodici anni si fece a insegnargli la storia sacra ma l'impresa andò subito in fumo bruscamente la seconda o al massimo la terza lezione il ragazzo di punto in bianco si mise a ridacchiare che hai domandò Grigori sbirciando severo di sotto gli occhiali oh niente la luce il signore Dio l'ha creata il primo giorno e il sole la luna e le stelle il quarto giorno oh allora di dove veniva la luce il primo giorno Grigori restò di stucco il ragazzo guardava beffardo al maestro c'era perfino nel suo sguardo un che Dio tracotante Grigori non pote tollerarlo eccoti di dove gridò e fuori bondo prese il discepolo a ceffoni il ragazzo incassò la schiaffeggiatura senza ribatter parola ma si rimpiattò nel cantuccio per parecchie altre giornate fu allora che a una settimana di distanza gli si manifestò per la prima volta nella vita il mal caduco che per tutta la vita non l'avrebbe lasciato più quando venne a saperlo Fiodor Paolovic sembra che di improvviso mutasse atteggiamento verso il ragazzo finora aveva dimostrato una certa indifferenza per lui seppure non lo aveva mai sgridato e incontrandolo ogni volta gli dava il soldino quando era di buon umore avveniva pure che mandasse al ragazzetto di tavola sua qualche cosa di dolce ma ora venuto a sapere della malattia cominciò seriamente a occuparsi di lui consultò i dottori gli fece intraprendere delle cure se non che fu palese che la guarigione era impossibile di media gli attacchi sopraggiungevano una volta al mese a scadenze varie pure varia era la forza degli attacchi stessi a volte erano lievi a volte veramente crudeli Fiodor Paolovic proibì a Grigori nel modo più severo di infliggere al ragazzo punizioni corporali e cominciò a lasciarselo venire in casa anche nelle stanze superiori aveva proibito al pari che per il momento fosse sottoposto a qualsiasi genere di studi ma un giorno il ragazzo aveva ormai 15 anni Fiodor Paolovic si accorse che gironzolava intorno all'armario dei libri e attraverso il vetro ne leggeva i titoli i libri Fiodor Paolovic ne aveva un certo numero un centinaio di volumi e più ma nessuno mai lo aveva veduto leggerne uno immediatamente egli affidò la chiave della libreria a Smerdiakov perché no leggi pure sarai il mio bibliotecario piuttosto che stare a zonzo giù in cortile sediti qui e leggi ecco leggi questo e Fiodor Paolovic gli tirò fuori le veglie alla fattoria di Dicanca il ragazzo iniziò la lettura ma rimase insoddisfatto non una volta che ridesse alla fine era addirittura imbronciato com'è non ti pare da ridere domandò Fiodor Paolovic Smerdiakov restava in silenzio rispondi scimunito è tutta roba che non è vera con un sorrisetto biascicò Smerdiakov e allora vattene al diavolo anima di lacchè aspetta eccoti la storia universale di Smaragdov questa è tutta roba vera leggi ma Smerdiakov non andò innanzi neppure a dieci pagine nella lettura di Smaragdov gli sembrò noioso e così tornò a chiudersi un'altra volta all'armadio dei libri ben presto Marfa e Grigori riportarono a Fiodor Paolovic che in Smerdiakov era venuta a manifestarsi a poco a poco una strana straordinaria schifiltosità si metteva a mangiare la minestra ed ecco che pigliava il cucchiaio e mesta rimesta dentro alla minestra curvandosi sul piatto guardandoci con l'anternino finché tira su il cucchiaio e lo solleva alla luce che c'è uno scarafaggio domandava allora Grigori sarà una mosca buttava la Marfa lo schizzignoso giovanottello non era il caso che rispondesse ma sia col pane sia con la carne sia con qualunque altro cibo si ripeteva la stessa cosa eccolo che alza il boccone infilzato alla forchetta ben in luce lo scruta come al microscopio rimane un pezzo indeciso e alla fine si decide a ficcarselo in bocca vede un po' che razza di signorino c'è scappato fuori lo buttava guardandolo Grigori Fiodor Paolovic a sentire la nuova peculiarità di Smerdiakov decise senz'altro che era destinato a fare il cuoco e lo mandò a imparare il mestiere a Mosca a imparare il mestiere e gli rimaserà parecchi anni e quando tornò era profondamente mutato d'aspetto d'improvviso era come stranamente invecchiato in modo del tutto sproporzionato all'età si era fatto grinzoso giallo d'era somigliare a uno scopec moralmente era invece tornato su per giù lo stesso di prima che partisse per Mosca era sempre lo stesso misantropo che non provava il minimo bisogno di nessuna compagnia anche a Mosca come poi si riseppe era sempre taciturno e Mosca di per sé stessa gli aveva destato così poco interesse che forse ci aveva fatto sì conoscenza di qualche cosa ma a tutto il resto non aveva neppure rivolto allo sguardo era stato anche a teatro una volta ma ne era riuscito taciturno e scontento in compenso era tornato da Mosca ben vestito con un sortù e della biancheria ben puliti con grande accuratezza si ripuliva con la spazzola il vestito regolarmente due volte al giorno e prendeva gran gusto a pulirsi gli stivaletti di vitello da elegantone con una speciale crema inglese in modo che diventassero lucidi come uno specchio come cuoco aveva fatto una riuscita eccellente Fyodor Paolovic gli fissò uno stipendio e questo stipendio Smerdyakov lo consumava quasi per intero in vestiti pomate profumi e via dicendo ma il sesso gentile a quanto pare era disprezzato da lui non meno di quello maschile affettava con esso un contegno compassato quasi inaccessibile Fyodor Paolovic cominciò allora a preoccuparsi di lui anche da un altro punto di vista il fatto è che gli attacchi del mal caduto gli erano cresciuti di violenza e in quei giorni il mangiare veniva preparato da Marfania Tegna cosa che a Fyodor Paolovic non andava assolutamente a genio da cosa dipende che questi attacchi ti prendono più spesso sbirciava a volte il nuovo cuoco scrutandolo in faccia forse una moglie ti farebbe bene vuoi che ti ammogli ma Smerdyakov a questi discorsi non faceva che impallidire di disappunto e non rispondeva verbo e Fyodor Paolovic se ne andava scrollando in aria la mano l'importante era che della sua onestà egli era convinto convinto una volta per sempre che costui non si sarebbe mai approfittato né avrebbe rubato nulla era accaduto una volta che Fyodor Paolovic al ticcio aveva lasciato cadere nel cortile di casa tra il fango tra i biglietti di quelli iridati che aveva intascati appena e se ne era risovveduto soltanto il giorno appresso si mette a frugare per le tasche e i biglietti iridati eccoli già lì tutte e tre sul suo tavolo o come mai Smerdyakov li aveva raccolti e portati qui fin dalla sera beh fratello di gente come te io ne ho vista poca aveva tagliato corto così sul momento Fyodor Paolovic e gli aveva regalato dieci rubli bisogna poi aggiungere che non solo era convinto della sua onestà ma che per qualche ragione gli voleva anche bene nonostante che il giovane guardasse anche a lui di sbieco né più né meno che a tutti gli altri e gli opponesse il solito silenzio di rado proprio avveniva che parlasse e se mentre taceva a quel modo qualcuno avesse pensato di chiedersi guardandolo di chi si interesserà questo giovanotto e quale sarà il suo pensiero dominante in verità sarebbe stato impossibile guardandolo dare una risposta ma intanto ora dentro casa ora in cortile magari in strada eccolo che si fermava cadeva sovra pensiero e restava così anche per dieci minuti un fisionomista dopo averlo ben guardato avrebbe detto che non si trattava né di pensiero né di riflessioni ma di una specie di stato contemplativo il pittore Kramschkoi ha un quadro notevole intitolato Il Contemplatore era figurato a un bosco invernale e nel bosco sulla strada in un misero cafettano a brindelli e in logo le cioce staritto solo soletto nel più completo isolamento un contadinuccio assorto staritto lì e sembra che pensi ma non pensa contempla qualche cosa se lo si urtasse egli avrebbe un sussulto e poserebbe lo sguardo su voi come risentendosi da un sonno ma senza comprendere nulla certo subito si riscuoterebbe ma se gli si domandasse a che cosa stesse così pensando molto probabilmente non potrebbe ricordare nulla e compenso però non mancherebbe di serbarsi nell'intimo quell'impressione sotto cui si trovava durante la sua contemplazione ora con queste impressioni gli sono assai care ed egli chissà le viene tesaurizzando con progressione insensibile e perfino senza averne coscienza per quale scopo motivo anche questo lo ignora può darsi che tutto a un tratto ma può aver accumulato impressioni simili per anni e anni pianterà in asso ogni cosa e se ne andrà a Gerusalemme a peregrinare per il mondo e a pregare per l'anima sua ma può darsi che tutto a un tratto appiccherà il fuoco al villaggio natio come pure non è da escludersi che avvengono l'una e l'altra cosa a un tempo dei contemplatori fra il popolo ce n'è parecchi e uno di questi contemplatori era probabilmente anche Smerdyakov e probabilmente anche lui accumulava le sue impressioni con avidità quasi ancora ignorandone lui stesso il perché una controversia ma ecco che l'asina di Balaam aveva cominciato a parlare l'argomento su cui era accaduto il discorso era ben strano Grigori la mattina facendo acquisti nella bottega di Lukianov aveva sentito il bottegaio raccontare di un soldato russo il quale lontano dalla patria fra gli asiatici fatto prigioniero da quest'ultimi e costretto per una morte atrocia e immediata ad abbigliorare il cristianesimo e a convertirsi all'islam non aveva consentito a tradire la sua fede e affrontando il martirio si era lasciato strappare la pelle di dosso ed era morto lodando e inneggiando a Cristo atto eroico di cui dava notizia il giornale uscito proprio quel giorno appunto di questo aveva parlato Grigori a tavola era un'abitudine che Fiodor Paolovic aveva cara sul finire del pranzo al dessert far due risate e due chiacchiere sia pure con Grigori oggi poi si trovava in una disposizione serena e piacevolmente espansiva sorseggiando il cognac e prestando ascolto alla notizia egli rilevò che un soldato di quella fatta si sarebbe dovuto senz'altro elevare nel novero dei santi e la pelle che gli era stata cavata trasportata in qualche convento così almeno la gente ci avrebbe portato un sacco di quattrini Grigori aggrottò il viso a vedere che Fiodor Paolovic non si era appunto commosso e al solito suo cominciava con gli scherzi riverenti fu a questo punto che Smerdiakov ritto accanto alla porta ebbe un soghigno si era sempre permesso a Smerdiakov di trattenersi presso la tavola si intende sul finior del pranzo ma da quando poi qui in città era venuto Ivan Fiodorovic aveva cominciato a presentarsi in salone quasi ogni volta cos'hai tu domandò Fiodor Paolovic che in un baleno aveva notato il soghigno e aveva capito che doveva riferirsi a Grigori stavo pensando signore cominciò d'improvviso e con voce alta in attesa Smerdiakov che se l'atto eroico di questo degno soldato è stato certo molto grande ciò non di meno non ci sarebbe secondo me nessun peccato anche se uno trovandosi in quelle circostanze rinegasse mettiamo il nome di Cristo e il battesimo che ha ricevuto in modo da preservare così la sua vita per le opere buone con cui nel corso degli anni potrà riscattare la propria pochezza d'animo e in che maniera non ci sarebbe peccato tu parli a vanvera e per quel che hai detto andrai difilato all'inferno dove ti metteranno arrosto come il montone ribatte Fiodor Paolovic ed ecco che a questo punto era sopravvenuto agli oscia Fiodor Paolovic come abbiamo già veduto gli aveva fatto grandissima festa è un argomento proprio per te ridacchiò tutto esultante facendo sedere agli oscia che ascoltasse in quanto al montone la cosa signora non sta così che anzi di là non succederà niente per questo e anzi non deve esserci niente di questo genere secondo tutte le vere simiglianze secondo tutte le vere simiglianze eh esclamò più allegro che mai Fiodor Paolovic dando un colpetto sul ginocchio ad agli oscia è un mascalzone ecco chi è lui prurpe di scatto Grigori e diede un'occhiata ai rosa Smerdiakov apertamente negli occhi in quanto al mascalzone vogliate aspettare un pochino Grigori Vasilevich calmo e misurato rimbeccò Smerdiakov e intanto riflettete piuttosto che una volta che io cadesse in mano ai persecutori della gente cristiana e costoro mi chiedessero di maledire il nome di Dio e di rinnegare il santo battesimo io sarei pienamente autorizzato a farlo in forza della mia propria ragione già che non si avrebbe in tal caso nessunissimo peccato ma questo l'hai già detto invece di ricamarsi sopra dimostralo gridò Fiodor Paolovic imbratta pentole sibilò Grigori sprezzantemente in quanto l'imbratta pentole vogliate pure aspettare un pochino e senza insultare ragionate da voi Grigori Vasilievic infatti non appena io avrò detto ai miei persecutori no io non sono cristiano e rinnego il verace Dio mio sull'istante per lo stesso alto giudizio di Dio io mi attirerò un'immediata speciale scomunica e mi troverò separato dalla santa chiesa né più né meno che un pagano qualsiasi di modo che in quello stesso istante non solo appena lo avrò detto ma appena mi sarà scintillato di dirlo non sarà passato neppure un quarto di secondo e io sarò già scomunicato sta così o non sta così Grigori Vasilievic con evidente compiacimento egli si rivolgeva a Grigori non rispondendo in realtà che alle domande di Fiodor Paolovic e ne era perfettamente conscio ma faceva apposta a comportarsi come se fossero domande che gli venissero da Grigori Ivan ruppe a un tratto Fiodor Paolovic chinati in qua con l'orecchio è per te che ha messo su tutta questa faccenda vuole che tu lo elogi elogialo dunque Ivan Fiodorovic ascoltò con serietà la vibrante comunicazione del babbo aspetta Smerdyakov stanzito un momento gridò di nuovo Fiodor Paolovic Ivan accosta qua l'orecchio un'altra volta Ivan Fiodorovic con la più profonda serietà accostò l'orecchio ancora una volta voglio bene anche a te come ad Agiosha non pensare tu che io non ti voglia bene un po' di cognacchino datemene tu però sei già brillo la tua parte Ivan Fiodorovic fissò intento il padre quanto a Smerdyakov egli lo osservava con la più grande curiosità uno scomunicato maledetto lo sai già adesso tu salto fuori di colpo Grigori e dopo questo avresti anche la faccia vigliacco di giudicare se non insultare Grigori non insultare troncò Fiodor Paolovic abbiate la pazienza di aspettare Grigori Vasilievic un momentino prego e statemi a sentire perché io non ho ancora terminato già che infatti in quello stesso istante in cui avrò da Dio quest'immediata maledizione non so se mi spiego in quello stesso preciso identico istante io sarò già diventato tutta una cosa con un pagano e il mio battesimo si sarà scancellato da me sarà sfumato in nulla siamo d'accordo almeno in questo concludi amico concludi incitò Fiodor Paolovic dopo aver di gran gusto centellinato dal bicchierino e allora una volta che io non son più cristiano significa che non ho mentito ai persecutori quando mi hanno domandato sei cristiano o non sei cristiano infatti io mi trovavo già spogliato direttamente da Dio del mio cristianesimo a causa di quel solo pensiero che mi era scintillato e già prima che avessi fatto in tempo a rispondere comunque ai miei persecutori ma se io sono già degradato dunque in che modo con quale giustizia potrebbero chiedermi conto nel mondo di là come se fossi un cristiano di aver rinnegato di aver rinnegato Cristo mentre è bastato quel pensiero solo prima ancora che pronunciarsi il rinnegamento per essere spogliato del mio battesimo una volta che io non son più cristiano è evidente che non posso rinnegare Cristo perché allora non mi sarà rimasto nulla da poter rinnegare e ad un tartaro pagano chi vorrà mai chieder conto Grigori Vasilievic fosse pure in cielo del fatto che non è nato cristiano e chi per questo vorrà mai castigarlo considerato che da un lupo solo è impossibile cavar fuori due pelli già poi anche il Dio Onnipotente seppure questo tartaro lo sottoporrà a giudizio quando muore suppongo che si tratterà di un castigo estremamente leggero dato che non è possibile non castigarlo affatto tenuto conto che non è mica colpevole lui se da genitori pagani è venuto pagano a questo mondo ma non potrebbe il Signore Dio pigliare per forza il tartaro e dire che anche lui era cristiano questo significherebbe allora che il Signore Onnipotente direbbe la menzogna dichiarata e può mai l'Onnipotente Signore del cielo e della terra proferire la menzogna fosse pure nella più piccola parola Grigori era come impietrito e guardava all'oratore con gli occhi fuori dalle orbite non capiva bene è vero che cosa gli dicessero ma di tutta quella tiritera qualche cosa aveva inteso a un tratto ed era rimasto lì nell'atteggiamento dell'uomo che di colpo ha cozzato con la fronte in un muro Fiodor Paolovic scolò il bicchierino e scoppiò in una stridula risata piccolo aglioscia piccolo aglioscia senti un po' che roba ma bravo il mio casuista questo deve essere stato quei gesuisti Ivan ehi il mio gesuita maleodorante ma chi è stato che ti ha insegnato cose simili soltanto che hai torto casuista mio hai torto hai proprio torto marcio Grigori non piangere che noi orora in un battibaleno lo mandiamo in fumo e in polvere eccoci qua dimmi un po' asina di Balaam ammettiamo che tu di fronte ai persecutori abbia ragione ma il fatto è che nell'infinita tua hai pur rinnegato la tua fede e dici tu stesso che in quel medesimo istante sei rimasto colpito ad anatema e discomunica e dunque una volta che hai ricevuto già l'anatema vedrai che con questo anatema addosso all'inferno non talisceranno i capelli come la pensi tu su questa faccenda gesuita mio illustrissimo sì signore non c'è dubbio che nell'intimo mio ho abbiurato ma non c'è stato tuttavia nessun peccato di gravità speciale e se un piccolo peccato c'è stato si tratta di uno di quelli proprio ordinari eh sì eh uno di quelli proprio ordinari dice il falso maledetto maledetto si bilò Grigori geticate con la vostra ragione Grigori Vasilievich imperturbabile e misurato ben conscio della sua vittoria ma quasi facendo il generoso con l'avversario battuto continuò Smerdiakov geticate con la vostra ragione Grigori Vasilievich è detto non è vero nelle sacre scritture che se avrete la fede fosse anche quanto un minuscolo seme e avendola direte a una montagna che si sposti e vada nel mare questa ci andrà immediatamente non appena voi glielo ordinerete ebbene Grigori Vasilievich se io non ho la fede e voi ne avete tanta che ogni momento addirittura mi insultate dunque provatevi voi a dire a questa montagna non già che si sposti fino al mare già che al mare di qui c'è una buona distanza ma basterebbe anche fino al nostro fiumicello puzzolente che ecco scola qui dietro al giardino così almeno vedrete coi vostri occhi in quel preciso momento che niente si sposterà e tutto rimarrà tale e quale come stava prima per quanto voi alziate la voce e questo sta a testimoniare che anche voi non avete fede Grigori Vasilievich quanta sarebbe necessario averne ma non fate altro in compenso che appioppare insulti al vostro prossimo considerate dunque che all'epoca nostra nessuno non soltanto voi dico bene ma assolutamente nessuno a cominciare dai più grandi personaggi fino all'ultimo contadino nessuno sarebbe capace di far spostare le montagne dentro al mare eccettuato forse un uomo solo in tutta la terra a dir tanto due e anche questi chissà in fondo a qualche deserto d'Egitto ritirati a far penitenza tanto che non si riuscirebbe nemmeno a trovare dove sono e se insomma la situazione è questa e tutti i rimanenti ne risultano privi di fede è possibile mai che tutti questi rimanenti cioè la popolazione della terra intera essettuati quei due tali remiti saranno maledetti da Dio e che con tutta la sua misericordia tanto famosa Egli non perdonerà nessuno di loro è per questo che io ho la speranza che se ho dubitato sarò perdonato quando mi scioglierò in lacrime di pentimento aspetta stridette Fiodor Paolovic all'apoteosi dell'entusiasmo dunque un paio di quelli capaci di spostare le montagne tu supponi pur sempre che esistano Ivan scolpisciti in mente questo tratto caratteristico prendine nota tutto intero l'uomo russo si è svelato qui avete rilevato con molta giustezza che si tratta di una caratteristica della fede popolare con sorriso d'approvazione convenne Ivan Fiodorovic ne convieni? allora è proprio così se anche tu ne convieni aglioce mio è la verità non ti pare? non ti pare che sia questa? la fede è propriamente russa? no la fede di Smerdiakov non è niente affatto russa in tono severo e fermo fu la risposta di Agiosha io non parlo della sua fede io parlo di questo tratto caratteristico di quei due remiti nel deserto di questo piccolo tratto esclusivamente questo non è vero è russo russo autentico sì questo tratto è proprio russo sorrise Agiosha vale uno zecchino la tua parola asina mia e io te lo farò recapitare oggi stesso ma quanto al resto hai torto torto e ancora torto sappi Baggeo che noi qui è per leggerezza pura e semplice se non abbiamo fede è perché ci manca il tempo anzitutto siamo sempre negli affari fino alla gola e in secondo luogo del tempo il Dio ce ne ha dato pochino in tutto non ha assegnato la giornata che 24 ore di modo che non c'è tempo neppure di cavarsi il sonno altro che di pensare all'anima ma tu invece hai rinnegato il Signore di fronte ai tuoi persecutori quando ormai non ti rimaneva più nulla da pensare fuorché alla fede e quando appunto era l'ora di dimostrare quanta fede si aveva direi che questo fratello sia una buona aggravante non ti pare? per essere un aggravante è un aggravante ma giudicate da voi Grigori Vasilievich se nello stesso tempo che aggrava non viene piuttosto ad alleggerire la colpa infatti se io in quel momento avessi fede nella verità come bisognerebbe avere fede allora effettivamente commetterai peccato non affrontando la tortura per la mia fede e passando alla fede pagana di Maometto ma il vero è che allora non giungerei neppure al punto ad affrontare la tortura perché mi basterebbe in quello stesso istante dire alla montagna muoviti e schiaccia il mio persecutore e quella si muoverebbe e in quello stesso istante lo schiaccierebbe come uno scarafaggio e io me ne andrei come niente fosse per la mia strada finneggiando e magnificando il Signore che se io proprio in quell'ultimo istante provassi a far così e gridassi alla montagna schiaccia questi persecutori e quella non li schiacciasse allora in che modo ditemi io potrei non dubitare nel frattempo e tanto più in quell'ora così tremenda del supremo terrore mortale tanto so di già che il regno dei cieli in pieno non potrò raggiungerlo dato che non si è mossa la montagna alla mia parola e dunque lassù alla mia fede non viene prestata gran fede e una gran ricompensa non mi aspetta nell'altro mondo a che scopo dunque io dovrei per sovrappiù e senza ormai nessun frutto farmi scorticare la pelle giacché seppure la pelle mi avessero già per metà scorticata dalla schiena anche in questo caso a una mia parola ad un mio grido non si sposterebbe la montagna e poi in un momento come quello non solo si può essere colti dallo sbigottimento ma il terrore può addirittura stravolgerti la ragione in modo che ragionar tanto diventerebbe completamente impossibile e allora di che colpa particolare mi macchierò io se non vedendo da nessuna parte per me né un'utilità né una ricompensa la pelle mia almeno quella cercherò di salvarla per tutto questo fidando sempre nella bontà del signore nutro la speranza che sarò perdonato di tutto centellinando il cognac la disputa terminò ma cosa strana Fiodor Paolovic tanto di buon umore verso la fine si ingrugnò di colpo si ingrugnò e si attaccò il cognac e questo fu un bicchierino proprio di troppo andatevene una buona volta gesuiti fuori gridò ai servitori passa via smerdiacov entro oggi lo zecchino che ti ho promesso te lo manderò ma ora via non piangere Grigori vada Marfa che lei ti consolerà ti metterà a far la ninna canaglie dopo mangiato non ti lasciano rimanere un po' in pace tutto contrariato proruppe quando vedendo subito al comando i servitori si furono allontanati smerdiacov ora ogni volta che si pranza si intrufola qua sei tu che gli desti tanto interesse ti hai fatto per attirartelo così si rivolgeva a Ivan Fiodorovic proprio niente rispose quello gli è venuto l'estero di prendermi in gran stima è un lacchè e uno sguattero carne d'avanguardia del resto per quando l'ora verrà l'avanguardia ce ne saranno anche dei migliori ma ce ne saranno anche così avanti ci saranno questi e dietro quelli un po' meglio e quando verrà l'ora il razzo comincia ad accendersi ma poi chissà non prenderà fino in fondo a questi imbrattapentole il popolo non presta orecchio finora molto volentieri così è fratello un'asina di Balaam di questa sorta si mette a pensare a pensare e sa il diavolo che pensieri approda dentro a quel cervello accumula idee ridacchiò Ivan vedi io lo so benissimo che quello lì neanche me può soffrire allo stesso modo che tutti gli altri te compreso sebbene a te sembri che gli è venuto l'estero di averti in grande stima il mio aglioscia poi è da un pezzo che lo ha in dispregio il mio piccolo aglioscia sì ma non è capace di rubare ecco l'importante non è un chiacchierone tiene la bocca chiusa e non va a sciorinare i panni sporchi fuori di casa i timballi di pesce li cucina superlativamente e poi soprattutto sai che ti dico se ne va dall'inferno o che forse vale la pena di parlare tanto di costui certamente non ne vale la pena in quanto poi a quello che nel cervello suo arriverà a pensare il contadino russo sia detto come regola generale va bastonato è una cosa che io ho sostenuto sempre il nostro contadino è un farabutto non merita che se ne abbia pietà è fortuna che tratto tratto non erbano ben bene ancora adesso la terra di russia si mantiene forte per le betulle fa sparire i boschi e la terra di russia andrà in rovina io me la prendo con le persone illuminate abbiamo smesso per il nostro grande capire di frustare i contadini e quelli continuano a bastonarsi per conto loro e fanno bene con la misura con cui avrai misurato ti sarà rimisurato o come si dice insomma ti sarà rimisurato già chi dice russia dice porcume amico mio se sapessi come odio la russia cioè non la russia ma tutti questi vizi che in fondo però sono una cosa sola con la russia tu se la è la coscionerie sai che cosa mi piace mi piace la cutezza di spirito voi avete bevuto un altro bicchierino basta ora aspetta ancora un po' e poi un altro e allora avrò finito no aspetta tu mi hai rotto il filo a McRoy di passaggio parlai una volta con un vecchio e mi disse il nostro meglio divertimento dice è di condannare le ragazze alla bastonatura e la bastonatura la facciamo eseguire sempre dai giovanotti a quella che oggi ha bastonato il giovanotto domani va a chiedere amore e così dice per le ragazze stesse è diventata da noi un'abitudine che razza di Marchesi de Sade pensala come vuoi ma è congegnata con spirito se facessimo una gita a vedere anche noi che ne dite mio piccolo Agioscia tu sei diventato rosso non avere vergogna bambino mi dispiace che poco fa dall'igumeno non mi sono seduto a tavola e a quei frati non ho potuto raccontare della ragazza di Mocroe Agioscia mio non ti arrabbiare se poco anzi ho offeso il tuo agumeno io sono uno mio caro che faccio presto a stizzirmi cosa vuoi se Dio c'è se esiste ebbene allora io sono indubbiamente colpevole e ne risponderò ma se lui non ci fosse in tal caso a che servirebbero ancora i tuoi padri sai allora a quanti di loro taglierebbero la testa per il motivo che impediscono il progresso lo crederesti Ivan che questo costituisce per me un tormento no tu non ci credi lo vedo dai tuoi occhi tu credi alla gente che io sono un buffone e nient'altro Agioscia ci credi tu che io non sia un buffone e nient'altro io credo che non siate un buffone e nient'altro io credo che tu ci creda e che parli sinceramente ma Ivan no Ivan è superbo eppure io del tuo conventino vorrei farne piazza pulita pigliare tutto questo misticume e in una botta sola annichilarlo da un capo all'altro della Russia in modo che tutti i babbei aprissero gli occhi una volta per sempre per non parlare di tutto l'argento di tutto l'oro che ne affluirebbe alla zecca ma perché annichilare disse Ivan oh bella perché la verità risplendesse più presto ecco perché ma se vedete con questa verità risplendesse sareste voi il primo essere spogliato di tutto e poi annichilato perbacco guarda un po' hai proprio ragione sono davvero un'asina ruppe d'improvviso Fiotr Paolovic battendosi leggermente la fronte allora resti pure in piedi il tuo conventino piccolo agli oscia se deve essere così e noi persone intelligenti se ne rimarremo al calduccio e ci godremo il cognacchino ma sai Ivan che deve essere stato il signore a congegnare le cose proprio apposta così Ivan parla c'è Dio o non c'è aspetta parla in coscienza parla sul serio che hai di nuovo che ridi rido pensando con quanta acutezza poco fa avete commentato la fede di Smerdyakov nell'esistenza di due eremiti capaci di spostare le montagne vuoi dire che in questo c'è qualche cosa di simile molto boh significa che anch'io sono un russo e che anche in me ci sarà quel tratto caratteristico russo come tu filosofo potresti essere colto nel tuo tratto caratteristico allo stesso modo se vuoi ti ci colgo facciamo la scommessa che domani stesso ti ci colgo ma dimmi tuttavia c'è Dio o non c'è purché seriamente ora mi bisogna che parli seriamente no Dio non c'è piccolo Alioscia c'è Dio Dio c'è Ivan e l'immortalità c'è voglio dire qualche cosa al di là sia pure poca cosa sia pure una cosina da nulla non c'è neppure l'immortalità proprio in nessuna forma in nessuna forma cioè il più perfetto zero non ci sarebbe alcunché o forse un certo alcunché potrebbe esserci sarebbe pur sempre ne vero meglio che niente c'è il più perfetto zero piccolo Alioscia c'è l'immortalità c'è Dio e l'immortalità Dio e l'immortalità è più verosibile che abbia ragione Ivan signore mio e pensare quanta fede ha speso l'uomo quante forze d'ogni genere inutilmente in questo miraggio e da quante migliaia di anni chi dunque si beffa a questo modo dell'uomo Ivan per l'ultima volta è senza mezzi termini c'è Dio o non c'è te lo chiedo per l'ultima volta e per l'ultima volta vi rispondo non c'è chi dunque si beffa così del genere umano Ivan il diavolo si vede ridacchiò Ivan ma il diavolo c'è no non c'è neppure il diavolo peccato ah porco diavolo se sta così che cosa gli farei al primo che ha inventato il Dio impiccarlo in cima a un pioppo di quegli sperticati sarebbe poco la civiltà allora non ci sarebbe stata se non avessero inventato Dio non ci sarebbe stata senza Dio vuoi dire già nemmeno il cognacchino ci sarebbe stato eppure il cognac vi fa comodo prenderlo aspetta aspetta un po' mio caro ancora un bicchierino io ad Agliosha gli ho fatto torto tu non stai inquieto come me mio caro Alexia tu sei il mio Alexia no non sto inquieto i vostri pensieri io li conosco il cuore in voi è migliore della testa in me il cuore è migliore della testa signore e da chi me lo sento dire Ivan vuoi bene tu al nostro Agliosha gli voglio bene devi volergli bene Fyodor Paulovic era ormai più che brillo ascolta Agliosha io ho fatto al tuo Starec una gran villania ma stavo agitato se no in questo Starec l'acutezza di spirito c'è a te che ne sembra Ivan può darci benissimo che ci sia c'è c'è Ilia du Peron della De Vance è un gesuita quello russo si intende come in tutte le anime nobili gli cova dentro un disappunto segreto di doversi esibire investire della parte del santo ma se egli ci crede in Dio neanche per sogno come tu non lo sapevi ma se lo dice a tutti lui stesso cioè non a tutti ma a tutte le persone intelligenti che vanno a visitarlo al governatore Schultz gliel'ha cantata chiara credo ma in che cosa non so possibile proprio così ma io lo stimo assai se in lui qualche cosa di mefistofile o piuttosto dell'eroe del nostro tempo Arbenin o come si chiama insomma capisci è un libidinoso è un libidinoso tale che io ancora adesso temerei per mia figlia o per mia moglie se dovessero andare a confessarsi da lui sai quando cominciasse con quei discorsi tre anni fa ci invitò a un piccolo tè con liquaretti dolci per giunta il signore gli regalano i liquori e quando si miserievo carità impiandati ti faceva crepare la pancetta dal ridere specialmente in che modo aveva curato una donna estenuata se le gambe non mi dolessero so io dice che danza ballerei con voi sentite che tipo Dato te ne ho cibato abbastanza diceva in vita mia al commerciante Demidov gli ha sgraffignato sessanta carte da mille quello gliele aveva portate come una persona per bene custodiscimele fratello domani in casa mi fanno una perquisizione e ci penso a lui a custodirgliele è un'offerta dice che tu hai fatto per la chiesa io gli dico un furfante sei tu no dice non sono un furfante io sono di mano larga questo però non me l'ha detto lui è stato un altro mi sono confuso con un altro e non me ne sono accorto su via questo bicchierino ancora e poi basta porta via la bottiglia Ivan ho parlato a vanvera perché tu non mi hai fermato Ivan e non mi hai detto che ero andato fuori di strada sapevo già che vi sareste fermato per conto vostro menti l'hai fatto per perfidia verso di me per perfidia e basta tu mi disprezzi tu sei venuto a stare con me e qua in casa mia mi disprezzi e io me ne riandrò a voi il cognac stravolge il cervello io ti ho pregato in nome di Cristo che ti recassi a Cermash per un giorno due al massimo e tu non ci vai domani partirò già che insistete tanto non partirai no la voglia tua è di ronzare qua intorno a farmi la spia ecco qual è la voglia tua anima perfida è per questo che non parti il vecchio non la smetteva più era arrivato a quel punto di ubriachezza in cui tanti ubriachi fin cui pacifici sono presi da un bisogno irresistibile di andare in collera e di far fracasso perché mi stai a guardare che hai dentro gli occhi i tuoi occhi mi guardano e mi dicono brutta grinta da ubriacone sono sospettosi gli occhi tuoi tu sei una lima sorda ma ecco agli oscia ti guarda e gli occhi gli splendono non mi disprezza mica agli oscia Alexei non voler bene a Ivan non prendetevela con mio fratello smettete di offenderlo improvviso con fermezza dice agli oscia oh che c'entra io giusto così oh che dolor di capo porta via il cognac Ivan sono tre volte che te lo dico e gli restò sopra pensieri e a un tratto ebbe un lungo e scaltro sorriso non ti adirare Ivan contro questo vecchio rinfrollito lo so che non mi vuoi bene ma ad ogni modo non ti adirare già non hai gran motivo di volermi bene se però vai a Cermasnia verrò anch'io lì a trovarti e ti porterò un regaluccio ti insegnerò là una ragazzetta che dà un pezzo ad occhiata per te per ora è ancora scalza e bruca ma non ti spaventare delle scalzarotte non le disprezzare sono perle e si sbaciucchiò la mano per conto mio di colpo si ringaluzzi tutto come se per un momento gli passasse la sbordia non appena imbroccato il tema preferito per conto mio eh ragazzi miei figliolini cari porcellini miei piccolini per conto mio in tutta la mia vita non c'è mai stata una donna che mi sembrasse sconveniente ecco il mio principio siete capaci di intendermi ma sì come potreste intendermi invece del sangue avete il latte nelle vene non siete ancora usciti dal guscio a norma del mio principio in qualsiasi donna si può trovare porco diavolo molto moltissimo di interessante come non si può trovare nessun'altra soltanto bisogna saperlo trovare ecco dove sta il busillis si tratta di talento per me di bruttine non ce n'era il fatto stesso che si trattava ad una donna già questo era metà dell'opera ma voi altri come potreste intenderlo perfino ne vi è il fil perfino in quelle puoi scovare alle volte certe cose e ti fanno restare a bocca aperta pensando a tutti gli scimuniti che le hanno lasciate invecchiare e non si sono mai accorti di loro la scalza bruca e la bruttarella bisogna per primissima cosa farla rimanere a bocca aperta ecco il metodo che bisogna adottare con lei ah tu non lo sapevi bisogna che rimanga a bocca aperta fino al parossismo fino allo spasimo fino alla vergogna dallo stupore che una povera folaga come lei possa aver fatto innamorare un signore di questa taglia è veramente providenziale che ci siano e sempre ci saranno sguatteri e signori al mondo sempre così ci sarà la ragazzetta di servizio e sempre il suo padrone e non ci vuole altro sapete per la felicità della vita aspetta stammi a sentire agli oscia io la tua povera mamma la facevo restare sempre a bocca aperta qui però la cosa si svolgeva in un modo diverso mai per solito che le facessi dei vezzi e di sorpresa quando arrivava il momento ecco che d'improvviso mi sdilinquisco tutto dinanzi a lei mi trascino sui ginocchi le copro i piedi di baci e la porto ogni volta ogni volta me ne rammento come fosse adesso al punto di abbandonarsi a un certo risolino sincopato squillante non forte nervoso tutto speciale era tutto quello di cui lei era capace io lo sapevo sì che in questo modo le cominciava sempre la malattia che domani stesso avrebbe cominciato a urlare come un'ossessa e che il risolino di questo momento così sottile non stava a denotare nessuna ebbrezza ma anche l'illusione è un'ebbrezza ecco che vuol dire vedete saper trovare in tutto il punto buono una volta Beliavski era un donaiolo quattrinoso che le faceva l'occhietto e aveva trovato il modo di venirmi in casa a bruciapelo lì in casa mia piglia e mi dà uno schiaffo proprio alla presenza di lei lei allora una pecorella com'era credetti che mi volesse fare a pezzi per questo schiaffo tanto d'impeto mi venne addosso tu diceva ormai sei battuto battuto hai preso uno schiaffo da lui a lui diceva tu m'hai venduta ma come ha osato costui batterti sotto i miei occhi bada di non arrischiarti a venirmi innanzi mai più mai più presto corri sfidalo a duello così io dovetti portarlo al convento perché si calmasse e venerandi padri la guarirono a forza di preghiere ma questo posso dirtelo di fronte a Dio agli oscia non ne ho mai fatto un torto io alla mia piccola clicuscia una volta soltanto forse l'unica il primo anno lei allora era sempre in preghiera specialmente per le feste della madonna aveva una grande vozione e così in quelle giornate mi scacciava da camera e via nel mio studio vedrai penso fra me che glielo sarà dico io questo misticismo guarda le dico guarda ecco qua la tua immagine eccola qua ecco io la piglio attenta ora non credi che sia miracolosa ed ecco che io orora sotto i tuoi occhi ci sputo sopra e non mi succederà un bel nulla quando mi vide far così signore mio pensai adesso mi ammazza invece salto su batte insieme le mani poi a un tratto si chiuse fra le mani il viso cominciò a sussultare tutta e cade in terra si abbandonò come morta agli oscia agli oscia che cos'hai che cos'hai il vecchio era balzato su atterrito agli oscia fin dal primo momento che aveva sentito parlare di sua madre man mano si era venuto alterando in viso era diventato rosso gli occhi gli si erano accesi nell'ambra gli rabbrividivano il vecchi accio ubriaco si guittava a spruzzarsi di saliva e a non avvedersi di nulla finché non accadde ad agli oscia qualche cosa di molto strano improvviso cioè si ripetè in lui punto per punto quel che il padre aveva allora allora raccontato della clicuscia improvviso agli oscia salto su d'accosto alla tavola precisamente come dal racconto aveva fatto sua madre batte insieme le mani poi ci si nascose il viso cade giù di schianto su una sedia e lì cominciò a sussultare in una crisi di pianto repentino che lo squassava tutto silenziosamente fu la straordinaria somiglianza con la madre che colpì soprattutto il vecchio Ivan Ivan sbrigati un po' d'acqua proprio come lei punto per punto come lei come sua madre quella volta spruzzagli con la bocca un po' d'acqua così feci io con lei gli ha fatto impressione sentir di sua madre capisci sentir di sua madre mormorò rivolto a Ivan ma era pure anche la mia se non sbaglio sua madre che ve ne pare a bruciapelo con incontenibile rabbioso disprezzo proruppe Ivan il vecchio ebbe un sussulto allo sfavillio di quello sguardo ma qui si verificò qualche cosa di molto strano fosse pure per non più di un secondo al vecchio effettivamente era uscito di mente a quanto pare che la madre di Agliosha fosse anche la madre di Ivan come dici tua madre borbottò senza capire tu che intendi con questo di che madre tu parli come se lei ah diavolo ma certo che è anche la tua diavolo questa mio caro è un'amnesia come non ne ho mai avute scusami è io che pensavo Ivan a questo punto gli restò in sospeso un lungo ebro quasi idiota sogginio contraste il suo viso ed ecco appunto in quell'istante rimbombarda l'entrata un tremendo fracasso si distinsero grida forsennate la porta si spalancò e nel salone si precipitò Dmitri Piodorovic il vecchio si slanciò accanto a Ivan atterrito ma ammazza ma ammazza non mi abbandonare non mi abbandonare strepitava aggrappato all'embo del soprabito di Ivan subito dietro a Dmitri Piodorovic accorsero in sala anche Grigori e Smerdyakov essi in ingresso avevano lottato con lui per non lasciarlo passare secondo le istruzioni che Fiodor Paolovic personalmente aveva impartite già da parecchi giorni profittando del fatto che Dmitri Fiodorovic irrompendo nella sala era rimasto fermo un istante per guardarsi attorno Grigori fece di corsa il giro della tavola chiuse a due battenti la porta opposta a quella d'entrata che metteva nelle camere più interne e si piantò dinnanzi alla porta con le braccia incrociate sul petto pronto a difenderne l'accesso per così dire fino all'ultimo sangue a quella vista Dmitri lanciò non un grido ma una specie di strido e si scagliò contro Grigori dunque lei sta di là l'avete nascosta di là scansati farabutto e si avventò contro Grigori ma questi lo ricacciò indietro fuori di sé dal furore Dmitri levò il braccio e di tutta forza colpì Grigori il vecchio si rovesciò di schianto e Dmitri scavalcandolo d'un salto si slanciò alla porta smerdiakov rimaneva là all'altra estremità della sala pallido e tremante stringendosi tutto a Fyodor Paolovic lei è qui gridava Dmitri Fyodorovic l'ho vista io proprio ora che voltava il cantone ma non ho fatto in tempo a raggiungerla dove sta dove sta indescrivibile l'impressione che produsse su Fyodor Paolovic quel grido lei è qui tutto lo spavento lo lasciò d'incanto fermalo fermalo strillò e si precipitò dietro a Dmitri Fyodorovic Grigori intanto sare rialzato da terra ma era ancora come fuori di sé Ivan e Agiosha si gettarono a rincorrere il padre a due stanze più in là si sentì di improvviso il rumore di qualche cosa che cadeva in terra e si fracassava tintinnando era una grande urna di vetro di non molto valore su piedistallo di marmo in cui Dmitri Fyodorovic correndo cirasente aveva dato di cozzo a tu gridava il vecchio soccorso Ivan Fyodorovic e Agiosha raggiunsero finalmente il vecchio e a forza lo riportarono in sala ma che fate a inseguirlo così ci mette tanto di là a ammazzarvi irosamente Ivan Fyodorovic gridò al padre Vanetschka Leschka dunque lei è qui Grushenka è qui lui stesso dice la vista che passava di corsa sembrava montato in fregola non si aspettava in questo momento Grushenka e di punto in bianco la notizia che lei era qui gli aveva stravolto il cervello tremava da capo a piedi rassomigliava a un pazzo ma se avete veduto da voi che non è venuta gridava Ivan ma forse da quell'altra entrata ma se sta chiusa quell'altra entrata e la chiave l'avete voi Dimitri di colpo riapparve in sala egli naturalmente aveva trovato l'altra entrata chiusa e la chiave si trovava effettivamente in tasca a Fyodor Paolovic tutte le finestre in tutte le stanze erano chiuse del pari così che non era possibile né che Grushenka fosse entrata di là né che di là fosse scappata fermalo cominciò a stridere Fyodor Paolovic non appena rivide Dimitri là in camera da letto ma rubato i denari e strappandosi a Ivan di nuovo si slanciò contro Dimitri ma quello alzò tutte e due le braccia di scatto afferrò il vecchio per gli ultimi ciuffi di capelli che gli restavano sulle due tempie gli dia uno strattone e con un tonfolo piombò per terra poi fece ancora in tempo a colpirlo due volte o tre così disteso col tallone sul viso il vecchio lanciava lamenti acuti Ivan Fyodorovic sebbene non fosse forte come il fratello Dimitri s'avvinghiò quest'ultimo e con uno sforzo supremo lo strappò via dal vecchio agli oscia con tutte le sue poche forze anche lui lo aiutava tenendo abbracciato il fratello dall'altra parte pazzo guarda tu l'hai ammazzato gridò Ivan questa è la fine che deve fare affannato proruppe Dimitri e se non l'ho ammazzato tornerò ad ammazzarlo avete un bel fargli da guardia Dimitri esci fuori di qui all'istante imperiosamente gridò agli oscia Alex K dimmelo solo tu a te solo credo è stata lei qui o non c'è stata ho veduta io coi miei occhi proprio ora che la sento lo steccato dal vicoletto scivolava questa volta io ho dato un grido lei è corsa via ti giuro che qui lei non c'è stata e nessuno qui la aspettava ma io l'ho veduta dunque lei non saprò subito dove è andata addio Alexei a Esopo ora non una parola di quel denaro ma da Caterina Ivanovna facci subito e mi raccomando mi manda a portarvi il suo commiato mi manda a portarvi il suo commiato il suo commiato proprio così il suo commiato è per sempre ed escrivele la scena nel frattempo Ivan e Grigori avevano tirato sul vecchio e lo adagiavano in una poltrona in viso era tutto insanguinato ma non aveva perso la conoscenza e avidamente tendeva l'orecchio alle grida di Dimitri credeva pur sempre che Grushenka fosse davvero nascosta qui in casa Dimitri Fedorovic lo guatò con odio uscendo non ho rimorso del tuo sangue e lo sgridò Ivan di rimando uè mi sta prendendo uno svenimento un po' d'acqua un asciugamano datti attorno Smerdiakov Smerdiakov corse per l'acqua il vecchio finalmente fu svestito e trasportato in camera e messo in letto in testa gli avvolsero quindi un asciugamano umido indebolito dal cognac dalle forti emozioni e dalle percosse come si appoggiò ai guanciali in un attimo chiuse gli occhi e si assopì Ivan Fedorovic e Agiosha tornarono in sala Smerdiakov portava via i cocci dell'urna frantumata e Grigori stava ritto presso la tavola tetro e a testa bassa non faresti meglio anche tu a bagnarti la testa e a metterti a letto Agiosha si rivolse a Grigori ci siamo noi qui a badarlo Dimitri ti ha dato un colpo così forte proprio in testa è il rispetto che mi ha tolto cupo scandendo le parole disse Grigori anche al babbo ha tolto il rispetto mica a te soltanto rilevò contraendo la bocca Ivan Fedorovic io gli ho fatto il bagno nella tinozza e lui mi ha tolto il rispetto ripete Grigori diavolo se non l'avessi strappato di lì era capace di ammazzarlo senz'altro non ci vuole un granché con Esopo ma ora Ivan Fedorovic ad Agiosha Dio ce ne guardi esclamò Agiosha e perché Dio ce ne guardi sempre così a bassa voce continuò Ivan con una contrattura cattiva sul viso un rettile si mangerà l'altro così andranno a finire tutte e due Agiosha ebbe un sussulto ben inteso che io non permetterò che il delitto si compia come non l'ho permesso poco fa ora tu resta qua Agiosha voglio andare a fare due passi giù sotto casa mi cominciò a dolere la testa Agiosha andò in camera dal padre e si trattenne là al suo capezzale dietro il paravento per quasi un'ora improvviso il vecchio aprì gli occhi e a lungo senza parlare tenne lo sguardo su Agiosha intento evidentemente a ricordare e a riflettere una violenta agitazione tutta un tratto gli trasparì sul viso Agiosha bisbigliò timoroso Ivan dov'è a di fuori gli duole il capo ci fa lui la guardia da qua lo specchietto ecco sta lì Agiosha gli porse il tondo specchietto pieghevole che stava sul comò il vecchio ci si guardò dentro il naso gli sarà gonfiato parecchio e sulla fronte sopra il cigio sinistro c'era una grossa ecchimosi paonazza che cosa dice Ivan Agiosha mio caro unico figlio mio io di Ivan ho paura più che di quell'altro di te solo non ho paura non abbiate paura nemmeno di Ivan Ivan si stizzisce ma vi difende Agiosha e quell'altro ora è corso da Grushenka angelo bello dimmi la verità c'è stata di anzi Grushenka o non c'è stata non l'ha vista nessuno è un abbaglio non c'è stata sai che lui Mitka in moglie vorrebbe prenderla prenderla in moglie lei non la consentirà non la consentirà non la consentirà non la consentirà a nessun patto non la consentirà gioiosamente il vecchio si riscosse tutto come se in quel momento non gli avessero potuto dir nulla di più rallegrante nell'esultanza afferrò la mano di Agiosha e se la portò forte al cuore ci fu perfino un luccichio di lacrime nei suoi occhi quell'immaginetta quella della madonna sai di cui ho parlato prima prendila tu portala con te e al convento puoi anche tornarci allora ho scherzato non ti inquiedare la testa mi duele Agiosha Esha dammi tu un po' di refrigerio al cuore simi un angelo dimmi la verità il pensiero vostro è sempre lì se l'hai c'è stata o non c'è stata dolorosamente disse Agiosha no 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 credo a te ma ecco che volevo dirti vammi da Glushenka tu stesso o insomma fai modo di vederla e domandale al più presto possibile al più presto possibile indovinalo da te o i tuoi occhi per chi hai in mente di decidersi per me o per lui eh potresti farmelo o non puoi se la vedrò glielo dirò provò a mormorare in risposta Agiosha turbato no lei non te lo dirà lo interruppe il vecchio quella è come l'argento vivo comincerà a baciare te e a dire che te vuole sposare quella è un'ingannatrice è una spudorata no tu non devi andare da lei non ci devi andare e poi davvero non sarebbe bello babbo non sarebbe davvero bello ma dove ti ha detto ad andare lui poco fa t'ha gridato vacci mentre correva via intendeva che andassi da Caterina Ivanovna per denaro a chiedere denaro no non per denaro lui di denaro non ne ha non ne ha neppure l'ombra ascolta Agiosha io mi riposerò stanotte e penserò meglio a tutto e intanto tu va chissà pure che non la incontri basta che vieni qui di sicuro domani mattina di sicuro domani mattina avrò da dirti una paroletta che so io verrai verrò se verrai fa mostra come se venissi per conto tuo a trovarmi non dire a nessuno che t'ho chiamato io a Ivan non gliene far parola sta bene addio Angelo poco fa tu mi hai offeso me le ricorderò sempre ti dirò una paroletta domani mattina ma ancora devo pensarci sopra ma come vi sentite adesso domani mattina vanzerò è in marcia sano come un pesce sano come un pesce sano come un pesce nel traversare il cortile Agiosha trovò il fratello Ivan sulla panca presso il portone stava seduto lì e scrivacchiava con l'apis il suo tacquino Agiosha riferì a Ivan che il vecchio sarà svegliato e stava in sé e lo aveva mandato a passare la notte al convento Agiosha sarai molto contento di rivederti domani mattina alzandosi disse Ivan con una gentilezza che Agiosha non si aspettava davvero io io domani andrò da Shoklakov rispose Agiosha anche da Katerina Ivanovna forse dovrò andare domani se ora non la trovassi dunque adesso in ogni modo da Katerina Ivanovna per accomiatarsi accomiatarsi per sempre non è vero sorrise a un tratto Ivan Agiosha si turbò io salvo errore ho capito tutto dalle grida di Bocanzi e da qualche altra cosetta in antecedenza Dimitri secondo tutte le probabilità ti ha pregato di recarti da lei e di riportarle che lui come dire insomma via saccomiata fratello come andrà a finire tutto questo orrore tra nostro padre e Dimitri esclamò Agiosha impossibile fare previsioni sicure in niente forse la cosa svanirà da sé quella donna è una belva in ogni modo il vecchio bisogna tenerlo in casa e Dimitri in casa non farcelo entrare fratello permetti ancora una domanda ha forse diritto ciascun uomo di giudicare guardando ai suoi simili chi di essi è degno di vivere e chi non è più degno perché complicare le cose con questo giudizio se ne siano degni o meno questa questione si risolve per lo più nei cuori degli uomini in base a tutt'altro criterio che all'esserne degni o indegni in base a tutt'altre ragioni molto più naturali ma per quanto riguarda quel diritto chi non ha il diritto di desiderare una cosa o l'altra non già però la morte di un altro forse anche la morte perché dunque mentire a se stessi quando tutti vivono così e in fondo altrimenti non possono vivere tu avevi di mira le mie parole di poc'anzi che i due rettili si mangeranno l'un l'altro permetti allora che ti chieda a mia volta tu credi che anch'io al pari di dimitri sia capace di spargere il sangue d'esopo insomma di ucciderlo di che dice ivan non mi è passata mai per la mente una cosa simile e dimitri stesso io non lo ritengo grazie di questo se non altro ebbe un sorriso ivan sappi che io lo difenderò sempre ma nei miei desideri mi concedo in questo caso la libertà di spaziare come voglio arrivederci a domani non giudicarmi male e non considerarmi come un delinquente soggiunse con un sorriso si strinsero forte la mano a vicenda come non avevano mai fatto finora agli osce ebbe l'impressione che il fratello fosse stato il primo a fargli un passo incontro e che non lo avesse fatto a vuoto ma indubbiamente con un'intenzione precisa l'una e l'altra insieme dalla casa del padre agli osce uscì in uno stato d'animo sconcertato e oppresso ancor peggio di quando poco prima c'era entrato la sua mente era anch'essa come frantumata e dispersa e nello stesso tempo era lui il primo a sentire che aveva paura di radunare il disperso e di estrarre un'idea generale da tutte le tormentose contraddizioni vissute da lui in quella giornata c'era in lui qualche cosa che confinava con la disperazione come non avveniva mai nel cuore di agli osce e su tutto gravava come una montagna la questione suprema fatale e senza risposta come sarebbe finita la contesa fra il padre e il fratello dimitri per questa terribile donna ormai ne era stato testimonio lui stesso lui stesso era stato lì presente e li aveva veduti l'uno di fronte all'altro e infelice in fondo pienamente e tremendamente infelice veniva ad apparirgliene soprattutto il fratello dimitri a lui incombeva inevitabile la rovina ma gliene erano emerse anche altre persone che la cosa toccava da presto e forse assai più che ad agli oscio non fosse potuto sembrare finora e risultava perfino un chede enigmatico il fratello ivan gli aveva fatto un passo incontro e questa era una cosa che agli oscia desiderava da gran tempo ma ecco che ora chissà perché lui sentiva nell'intimo quasi uno spavento di questo passo con cui gli si riaccostava e quelle donne cosa strana poco prima si stava avviando da Caterina Ivanovna con animo straordinariamente turbato ora invece nessun turbamento anzi gli veniva naturale da frettare il passo come in una speranza di trovare presso di lei qualche orientamento eppure eseguire la sua missione era evidentemente più arduo ora che non poco prima la faccenda dei 3000 rubli si era risolta definitivamente e il fratello Dimitri sentendosi ormai disonorato e senza più un fil di speranza non si sarebbe fermato più certamente di fronte a nessuna caduta per giunta aveva avuto da lui l'incarico di riferire a Caterina Ivanovna la scena svoltasi appena erano ormai le sei e cominciava a far scuro quando gli oscia arrivò da Caterina Ivanovna che abitava in uno spazioso e comodo appartamento della via grande agli oscia sapeva che essa viveva con due zie una di queste veramente era zia soltanto alla sorella ad Agafia Ivanovna era quel tale personaggio senza parola che nella casa paterna insieme con la sorella aveva avuto tante cure per lei quando era uscita di collegio l'altra zia era una distinta e contegnosa signorina moscovita seppure tutt'altro che ricca correva voce che tutte e due si assoggettassero in tutto a Caterina Ivanovna e che stessero presso di lei unicamente per etichetta Caterina Ivanovna dal canto suo non si assoggettava a nessuno fuorché alla sua benefattrice alla generalessa trattenuta dal male a Mosca e a Costei era tenuta a inviare due lettere la settimana informandola per filo e per segno di quanto faceva quando a Mosca fu in anticamera e diede il suo nome alla cameriera che gli aveva aperto già in salotto sapevano evidentemente della sua venuta forse lo avevano avvistato dalla finestra ma da Mosca non ne giunse altro che un improvviso rumorio precipitosi passi femminili un fruscio di vesti sembrava che fossero fuggite via due o tre donne pareva strano ad Agioscia che la sua avvenuta potesse provocare tanta agitazione senza indugi però egli fu introdotto in salotto era questa una grande stanza arredata con profusione di mobili elegante con gusto tutt'altro che provinciale c'era una quantità di divani e di cheslong di divanucci di tavolini grandi e piccoli c'erano quadri alle pareti vasi e lampade sui tavoli molti fiori e perfino un acquario alla finestra il crepuscolo faceva sì che la stanza fosse in penombra Agioscia distinse su un divano dove evidentemente sedevano un momento fa gettata là una mantiglia di seta e sul tavolo dinanzi al divano due tazzine piene a mezzo di cioccolata biscotti un piatto di cristallo con zibibbo turchino e un altro di confetti doveva esserci qualche invitato Agioscia capì d'essere capitato mentre c'erano visite e aggrottò il viso ma proprio in quell'istante si sollevò una portiera e con rapidi passi frettolosi entrò Caterina Ivanovna stendendo con un sorriso felice e raggiante tutte e due le mani ad Agioscia nello stesso momento una donna di servizio portò e dispose sul tavolo due candele accese grazie a Dio finalmente eccovi qua sono stata a pregar tutto il giorno che appunto voi veniste accomodatevi la bellezza di Caterina Ivanovna aveva già prima d'oggi colpito Agioscia quando il fratello Dmitri tre settimane or sono lo aveva condotto per la prima volta in casa di lei a presentarglielo e farne la conoscenza secondo il preciso e vivissimo desiderio di Caterina Ivanovna nessuna conversazione però sarà avviata fra loro durante quella visita supponendo che Agioscia si trovasse in gran soggezione Caterina Ivanovna aveva cercato come di risparmiarlo e aveva sempre rivolto il discorso a Dmitri Fiodorovic Agioscia taceva ma molte cose aveva potuto osservare assai bene lo avevano colpito l'aria imperiosa la disinvoltura superba la sicurezza di sé dell'altera ragazza e in tutto questo non c'era dubbio Agioscia sentiva di non esagerare aveva trovato bellissimi i grandi neri occhi di lei e particolarmente intonati al pallido lungo viso dalle sfumature di cera ma in quest'occhi come anche del resto nella linea delle bellissime labbra c'era qualche cosa di cui certo suo fratello aveva dovuto innamorarsi follemente ma di cui forse non era possibile restare innamorati a lungo e aveva comunicato senza troppi ambaci il suo pensiero a Dimitri quando dopo la visita quello gli si era accostato pregandolo di non nascondergli quale impressione avesse ritratto della sua fidanzata tu sarai felice con lei ma forse non tranquillamente felice così è fratello mio sono di quelle donne che come sono così restano e non piegano il capo neppure al destino dunque tu credi che io non l'amerò sempre no forse tu l'amerai sempre ma forse non sarai con lei sempre felice Agiosha quella volta aveva emesso la sua opinione arrossendo irritandosi con se stesso per aver ceduto alle preghiere del fratello e aver espresso pensieri così sciocchi giacché infatti la sua opinione era sembrata a lui stesso terribilmente sciocca subito dopo che la aveva espressa per non dire che sentiva vergogna di quel modo di pronunciarsi con tanto sussiego nei confronti di una donna con tanto più sconcerto adesso appena alzò gli occhi a Caterina Ivanovna che gli veniva incontro sentì che forse quella volta era andato assai lontano dal vero oggi il viso di lei splendeva ad un'autentica incenua bontà d'una sincerità franca e ardente di tutto quell'orgoglio e quell'alterezza che avevano tanto colpito Agiosha all'altra volta rimaneva ora soltanto un'ardita tenerosa energia e non so che limpida possente fede in se stessa fin dal primo sguardo fin dalle prime parole Agiosha capì che tutta la tragicità della posizione di lei di fronte all'uomo che amava tanto era per lei tutt'altro che un mistero e che forse essa sapeva già tutto tutto fino in fondo eppure nonostante questo c'era tanta luce sul suo viso tanta fiducia nell'avvenire Agiosha si sentì di fronte a lei tutta un tratto seriamente e meditatamente colpevole fu vinto e ammaliato a un tempo si era accorto inoltre fin dalle sue prime parole che essa era in preda a una forte eccitazione e probabilmente assai rara in lei un'eccitazione che rassomigliava addirittura a una specie di esaltazione apposta v'ho aspettato tanto perché da voi solo ora posso sapere tutta la verità da nessun altro che da voi io sono venuto mormorò Agiosha confondendosi io lui mi manda ah venite da parte sua già così presentivo anch'io adesso so tutto so tutto esclamò Caterina Ivanovna ed improvviso le scintillarono gli occhi aspettate Alexei Fiodorovic voglio dirvi prima perché lo aspettavo tanto sapete io sono forse a conoscenza di molte più cose che non siate voi stesso non sono le notizie che mi occorrono da parte vostra ecco che cosa mi occorre da parte vostra mi occorre sapere l'impressione vostra personale che avete avuto di lui ultimamente mi occorre che voi mi raccontiate nel modo più schietto più disadorno rude sia pure rude quanto vi pare che cosa voi pensiate di lui e della sua situazione dopo il vostro incontro con lui stamane questo sarà meglio forse che se io stessa dopo che egli non vuol più venire da me avessi con lui una spiegazione diretta avete inteso che cosa voglio da voi e adesso in che consista l'incarico che va dato già lo sapevo io che vi avrebbe mandato qui fatemelo sapere senza fronzoli fatemi sapere proprio l'ultima parola mi ha incaricato di portarvi il suo commiato e di dirvi che non verrà più qui insomma di portarvi il suo commiato il suo commiato proprio così va detto così si è espresso si di passata forse senza badarci ha sbagliato la parola non gli è venuta la parola esatta no mi ha affidato l'incarico preciso di riportarvi questa parola commiato mi ha raccomandato tre volte che non mi scordassi di ripetervela Caterina Ivanovna avvampò aiutatemi adesso Alexei Fiodorovic è proprio adesso che mi occorre il vostro aiuto io vi esporrò il mio pensiero e voi di rimando ditemi soltanto se penso o no correttamente ascoltatemi se egli vi avesse incaricato di portarmi il suo commiato così di passata senza insistere sulla parola da riportarmi senza sottolineare la parola in tal caso sarebbe sarebbe senz'altro la fine ma se in modo particolare ha insistito su questa parola se in modo particolare vi ha raccomandato che non vi scordaste di ripetermi cotesto commiato allora ciò significa che egli si era eccitato era fuori di sé verosimilmente aveva preso questa decisione e la sua stessa decisione lo aveva spaventato non se n'è andato da casa mia ad un passo fermo ma correndo via all'impazzata aver sottolineato questa parola può indicare che si tratta di una bravata e basta è così è così che un calore confermò agli oscia anche io ora ho questa impressione ma se è così egli ancora non è perduto è disperato soltanto ma io posso ancora salvarlo aspettate non va fatto parola di certo denaro 3.000 rubli non solo me ne ha parlato ma questo era forse ciò che più di ogni altra cosa lo torturava vi diceva che ora ha perduto il suo onore e che ormai niente più c'è per lui avidamente rispose agli oscia sentendo con tutto l'essere che la speranza gli riaffluiva al cuore e che realmente forse esisteva una via d'uscita e di salvezza per suo fratello ma forse voi siete informata circa quel denaro da un pezzo ne sono informata e informata con sicurezza inviai a mosca per accertarmene un telegramma e fin da allora ho saputo che il denaro non è stato recapitato fu lui a non spedirlo ma io ho sempre tagiuto la settimana scorsa sono venuta a sapere che aveva bisogno d'altro denaro io in tutto questo mi ero prefissa uno scopo solo che egli si rendesse conto a chi doveva rivolgersi e chi era il suo più fido amico ma no lui non vuol credere che sono io il suo più fido amico non ha voluto riconoscere il mio vero essere mi considera semplicemente come una donna per tutta la settimana sono stata tormentata da un terribile assillo come fare perché non si vergognasse di fronte a me di questa sottrazione di 3000 rubli cioè si vergognasse pure di tutti e di se stesso ma non si vergognasse di me addio non è vero dice bene ogni cosa senza averne vergogna perché dunque non riconosce ancora quanto io sia capace di sopportare per lui perché perché non mi riconosce e come osa non riconoscermi dopo tutto quello che c'è stato io voglio salvarlo per sempre mi dimentichi pure come sua fidanzata ma ecco che ora di fronte a me egli teme per il suo onore eppure vedete a voi Alexei Fyodorovic non ha avuto timore a confidarsi perché io fino a questo momento non mi sono meritata altrettanto queste ultime parole le pronuncio piangendo le lacrime le sprizzavano dagli occhi debbo informarvi disse a Joscia che anche a lui tremava la voce di quanto è avvenuto poc'anzi fra lui e nostro padre e raccontò tutta la scena raccontò come il fratello lo avesse mandato a chiedere quel denaro come avesse fatto irruzione là dentro avesse battuto il padre e quindi con particolare insistenza avesse ribadito a lui a Joscia di recarsi a portare il suo commiato lui è andato da quella donna soggiunse a mezza voce a Joscia e voi crederete forse che quella donna io non sappia sopportarla crede lui che io non sappia sopportarla ma non la prenderà in moglie nervosamente scoppiò a ridere a un tratto può mai un Karamazov bruciare di una passione simile in eterno ha una passione questa non è amore egli non la prenderà in moglie tanto più che anche lei non lo vorrebbe per marito e di nuovo Caterina Ivanovna ridacchiò in modo strano egli forse la prenderà in moglie mestamente disse a Joscia atterrando lo sguardo non la prenderà in moglie ve lo dico io quella ragazza è un angelo voi lo sapete sappiatelo dunque proruppe di colpo con straordinaria vivacità Caterina Ivanovna tra le creature fantastiche la più fantastica è lei io so bene quanto è affascinante ma so pure quanto è buona risoluta generosa che avete da guardarmi così Alexei Fyodorovic forse siete stupito delle mie parole forse non mi credete Agrafena Aleksandrovna angelo mio gridò Bruce a pelo rivolgendosi verso l'altra stanza venite qui è una cara persona è Aglioscia che delle cose nostre sa tutto fatevi vedere da lui io stavo appunto aspettando dietro la tenda che mi chiamaste risuonò una morbida quasi un po' sdolcinata voce di donna si sollevò la portiera e Grushenka in persona ridendo festosamente si avvicinò qua alla tavola fu come se Aglioscia si rimescolasse qualche cosa rimaneva incatenato a lei con lo sguardo senza riuscire a staccarne gli occhi eccola qua quella donna tremenda quella belva come mezz'ora fa era scappato detto al fratello Ivan eppure questa che gli stava innanzi si sarebbe detta la più comune e semplice delle creature una buona cara donna bella sì ma tanto simile a tutte le altre donne belle ma comuni certo bella era molto anzi in modo eccezionale una di quelle bellezze russe che a tanti piacciono fino alla frenesia era una donna di statura piuttosto alta sebbene inferiore a quella di Katerina Ivanovna che era di statura decisamente alta piena flessuosa e per così dire silenziosa nei movimenti della persona in cui era un languore spinto fino a quella stessa sdolcinatezza che le improntava la voce si fece in qua in tutt'altro modo da Katerina Ivanovna non già con quella energica fiera andatura ma silenziosamente dei suoi passi sul piancito non si diva il minimo rumore mollemente si rilasciò sulla poltrona con un molle fruscio del sontuoso nero abito di seta e si avvolse con l'anguore il collo pieno bianco come spuma e le larghe spalle in un ricco scialle di lana nera aveva 22 anni e il suo viso dimostrava né più né meno che quell'età era bianchissima in viso con una sfumatura di incarnato rosa pallido alta sugli zigomi l'ovale di quel viso era forse un po' troppo largo e la mascella inferiore veniva un tantino in avanti il labbro di sopra era sottile e quello di sotto che ne sporgeva alquanto era due volte più pieno e quasi un po' gonfio ma i meravigliosi abbondantissimi capelli di un biondo cupo le scure sopracciglia color martora e gli incantevoli occhi grigio-azzurri dalle lunghe ciglia avrebbero costretto il più indifferente e distratto degli uomini forse anche tra la folla in un passaggio nella calca a fermarsi di colpo di fronte a questo viso e asserbarne lungamente il ricordo quel che soprattutto colpì Agliosha in questo viso fu la sua espressione infantile ingenua si guardava intorno come una bambina si rallegrava chissà di che come una bambina sarà fatta qua verso il tavolo con una festosità e una specie di aspettativa in cui era un'impaziente e fiduciosa curiosità proprio da bambina aveva uno sguardo che ti rallegrava l'anima Agliosha nebbe la sensazione ebbe la sensazione viva c'era in lei anche qualcosa d'altro di cui egli non poteva o non avrebbe saputo rendersi conto ma che forse anche a lui si dava a sentire inconsciamente e cioè ancora una volta quella mollezza quel languore di movimenti nella persona la silenziosità da gatta di cotesti movimenti eppure era quello un corpo vigoroso ed ovizioso sotto lo scialle si tradivano le larghe spalle piene l'alto seno ancora perfettamente giovanile quel corpo prometteva forse le forme di una venere di milo sebbene già indubbiamente in proporzioni alquanto accentuate tale era l'impressione che ne emanava i conoscitori della bellezza muliebre russa avrebbero potuto predire senza tema di errore guardando Grushenka che questa fresca ancora giovane bellezza sui trent'anni avrebbe perduto la sua armonia si sarebbe scomposta il viso stesso si sarebbe appesantito intorno agli occhi e sulla fronte sarebbero apparse precoci grinzoline il colorito si sarebbe fatto più rozzo magari a caderne il paonazzo insomma una bellezza ad un istante una bellezza effimera come tanto di frequente si incontra appunto nella donna russa agli oscia ben si intende a questo non pensava ma sebbene ammaliato un'oscura sensazione sgradevole e quasi un senso di commiserazione gli facevano domandare a se stesso ma perché strascica così le parole e non può parlare con naturalezza essa evidentemente trovava in quella pronuncia strascicata e in quella forzata sdolcinata attenuazione delle sillabe e dei suoni una specie di bellezza non doveva non doveva essere in fondo che una cattiva abitudine di cattivo gusto restava a testimoniare di una misera educazione di un concetto volgare nella distinzione acquisito fin dall'infanzia e tuttavia quel modo di pronunciare ed intonare le parole si presentava ad agli oscia come una strana quasi inspiegabile contraddizione con questa espressione infantilmente ingenua e festosa del viso con questo pacato felice e fanciullesco splendore degli occhi Caterina Ivanovna in un battibaleno la fece accomodare nella poltrona di fronte ad agli oscia e con entusiasmo la baciò parecchie volte sulle labbra li denti sembrava che fosse innamorata di lei è la prima volta che noi ci vediamo Alexei Fyodorovich disse inebriata da tanto io volevo conoscerla vederla volevo recarmi a casa sua ma lei non appena ha saputo del mio desiderio è venuta per prima io lo sapevo già che fra noi due avremmo tutto risolto tutto il cuore me lo diceva mi dissuadevano dal fare questo passo ma io presentivo come sarebbe andata a finire e non mi sono sbagliata Grushenka mi ha spiegato tutto tutte le intenzioni che ha come un angelo buono è corsa qui da me e ha recato con sé pace e gioia non vi siete schifata di me cara degna signorina disse Grushenka cantilenando sempre con quel suo caro radioso sorriso non osate neppure dirmi di tali parole incantatrice magliarda schifarsi di voi ecco sul vostro bel labbro su questo di sotto voglio darvi ancora un bacio si direbbe che lo abbiate un po' gonfio che diventi dunque ancora più gonfio e ancora un po' e ancora un po' guardatela come ride Alexei Piotrovich il cuore si rallegra a guardare un angelo simile Agiosha arrossì e fremeva d'un impercettibile piccolo fremito voi mi vezzeggiate tanto signorina cara e io forse non mi merito affatto le vostre carezze non se le merita lei dire che non se le merita proruppe di nuovo con lo stesso trasporto Caterina Ivanovna dovete sapere Alexei Piotrovich che siamo una testolina un po' fantastica un cuoricino indipendente ma con la sua brava dose d'orgoglio siamo generose Alexei Piotrovich siamo magnanime lo sapevate voi troppo corrive siamo state ad affrontare ogni sacrificio per un uomo indegno forse o perlomeno fatuo c'è stato c'è stato anche un certo ufficiale a cui noi abbiamo voluto bene abbiamo tutto donato de gran tempo ormai sono cinque anni e quello poi ci ha dimenticate ha preso moglie ora è rimasto vedovo c'è scritto che vuol venire qui e voi dovete sapere che lui solo lui solo è quello che amiamo e che abbiamo amato tutta la vita lui verrà qui e Grushenka sarà di nuovo felice che in questi cinque anni sempre infelice è stata ma chi potrà rimproverarla chi potrà mai vantarsi dei suoi favori soltanto quel vecchio impedito quel mercante ma quello è stato piuttosto un padre per noi un nostro amico un protettore ci ha trovate allora nella disperazione fra le pene abbandonate da colui chiamavamo tanto e il fatto è che lei voleva annegarsi allora e questo vecchio l'ha salvata l'ha salvata oh come mi state difendendo signorina cara oh che premura avete in tutto questo cominciò a cantilenare Grushenka vi sto difendendo oh che forse tocca a noi di difendervi o tantomeno possiamo usar difendervi in questo caso Grushenka angelo date qua la vostra manina guardate che soffice piccola incantevole manina Alexei Fyodorovic eccola qui è essa che mi ha recato la felicità mi ha fatto risuscitare e ora io me la voglio coprire di baci prima sul dorso e poi nella palma così e così e così e per tre volte come inebriata essa baciò davvero l'incantevole anche se un po' troppo grassoccia manina di Grushenka costei dal canto suo porgendole la mano con un sorriso nervoso squillante e ammagliante guardava fare la cara signorina e le riusciva evidentemente piacevole vedersi baciare la mano a quel modo forse alla fin fine è eccessivo tanto trasporto balenò nella mente di Aglioscia un rossore gli salì al viso e il cuore intanto gli veniva battendo in una singolare agitazione non mi svergognate così cara signorina abbassarmi la mano voi in presenza di Alexei Fedorovic ma che forse io ho avuto intenzione di svergognarvi ribatte un po' meravigliata Caterina Ivanovna ah cara come mi intendete male e se foste voi che non mi intendete per niente cara signorina chissà che io non sia tanto più cattiva che a voi non sembri io di cuore sono cattiva sono capricciosa quel poveretto di Dmitri Fedorovic per beffa e nient'altro io l'ho adescato allora ma in compenso adesso siete voi che lo salvate ve ne avete dato la parola voi lo ridurrete alla ragione gli rivelerete che amate un altro da gran tempo e che ora costui vi propone di sposarvi no 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 io non vi ho dato la parola di questo ma avete detto tutto voi per conto vostro e io non vi ho dato nessuna parola allora non v'ho inteso bene a mezza voce impallidendo un'ombra disse Caterina Ivanovna voi mi avevate promesso ah no no signorina mia bella io non v'ho promesso niente calma e indifferente con la sua solita espressione lieta e ingenua interruppe Grushenka qui si vede grazia signorina quanto sono infame e prepotente di fronte a voi come mi viene voglia di fare così faccio poco fa forse v'ho anche promesso qualche cosa ma ecco che adesso ci ripenso tutto a un tratto chissà che non mi piaccia di nuovo mitia come una volta mi è piaciuto assai che quasi un'ora intera mi piacque ed ecco che orora come niente io vado e gli dico che da oggi rimanga con me vedete un po' che razza di volubile sono io poco fa parlavate in tutt'altro modo a stento mormorò caterina ivanovna poco fa ma sapete io sono così tenera di cuore così sciocca pensare soltanto tutto quello che ha passato per colpa mia d'improvviso arrivo a casa e sento compassione di lui e allora non mi sarai aspettata eh signorina quanto siete più buona e più nobile voi a confronto di me scommetto che ora non mi vorrete più bene stupida come sono per colpa del mio carattere datemi la vostra cara manina signorina mia bella teneramente supplicò e in una specie di venerazione prese la mano di caterina ivanovna ecco signorina cara prendo la vostra manina e come avete fatto a me ve la bacio voi me l'avete baciata tre volte e io dovrei allora baciarvela trecento di volte per sdebitarmi ma per ora basti così e in seguito sia come Dio vuole forse io sarò in tutto schiava vostra e in tutto cercherò di compiacervi da schiava come Dio stabilirà così avvenga senza stare a fare tra noi tanti patti e promesse questa manina questa vostra manina è proprio graziosa questa manina signorina cara bellezza mia senza confronti pian piano sarà portata quella manina alle labbra per quanto strano a dir la verità fosse quello scopo di sdebitarsi dei baci Caterina Ivanovra non aveva ritratto la mano con una timida speranza era stata a sentire l'ultima promessa benché anche questa stranamente espressa che Grushenka le aveva fatto di compiacerla da schiava e tutta sospesa la guardava negli occhi vedeva in quegli occhi sempre quella stessa ingenua confidente espressione sempre quella stessa limpida festosità e forse eccessivamente ingenua un lampo di speranza passò nel cuore di Caterina Ivanovna Grushenka intanto come inebriata dalla cara manina lentamente se la sollevava alle labbra ma a un filo dalle labbra bruscamente trattenne la mano per due tre secondi come riflettendo a qualche cosa sapete che vi dico signorina mia bella d'improvviso cantilenò con una voce più tenera e sdolcinata che non avesse mai avuto sapete che vi dico io la prendo la vostra manina ma non la bacio e ruppe a ridere ad un piccolo riso esilarato come vi pare ma che cosa avete sussultò d'improvviso Caterina Ivanovna così almeno resterete con questo ricordo che voi mi avete baciato la mano e io a voi no uno sfavigliore pentino le era apparso negli occhi con un'impressionante fissità essa guardava Caterina Ivanovna sfrontata scattò a bruciapelo Caterina Ivanovna come se ad un tratto avesse capito qualche cosa avvampò tutta e balzò in piedi senza frettarsi salzò anche Grushenka così anche Amitia Orora gli racconterò che voi mi avete baciata la mano e invece a voi niente e chissà quanto lui ci riderà Donnaccia fuori ah che vergogna signorina che vergogna in bocca a voi sono proprio una sconvenienza parole simili cara signorina fuori carne da vendere stridette Caterina Ivanovna e ogni lineamento le tremava nel viso tutto sfigurato anche carne da vendere ora ma se voi per prima da giovinetta verso sera ve ne andavate a bussar quattrini in casa dei cavalieri offrendo in vendita le vostre bellezze io lo so vedete Caterina Ivanovna e mise un grido e fece per scagliarsi sull'altra ma la trattenne agli oscia con quante forze aveva né un passo né una parola non parlate non rispondete nulla già se ne andrà subito in quel momento accorrevano al grido le due parenti di Caterina Ivanovna e di corsa entrò anche la cameriera tutte si precipitarono su lei e infatti me ne andrò disse Grushenka pigliando su dal divano la mantiglia agli oscia caro accompagnami tu andate andate senza indugio e giunse innanzi le mani supplichevole agli oscia caro il mio piccolo agli oscia vieni tu ad accompagnarmi io strada facendo voglio dirti una parolina che ti piacerà ti piacerà assai è tutto per te mio piccolo agli oscia se ho fatto questa scenata accompagnami tesoro dopo sarai contento agli oscia si voltò dall'altra parte torcendosi le mani Grushenka con una risata squillante lasciò di corsa la casa una crisi di nervi sopraffice Caterina Ivanovna si inghiozzava spasmi alla gola la soffocavano tutti le tramenavano intorno io ve lo avevo predetto le diceva la zia più anziana io ho fatto di tutto per dissuadervi da questo passo voi siete troppo irruente non bisognava mai decidersi a un passo simile le donne di questo genere voi non le conoscete e questa poi dicono che è la peggiore di tutte no voi volete far troppo di testa vostra quella è una tigre stridette Caterina Ivanovna perché mi avete trattenuta Alexei Fiodorovic io l'avrei battuta battuta non sembrava più in grado di frenarsi in presenza di agli oscia e forse non voleva neppure frenarsi va battuta con le verghe sul patibolo per mano del boia al cospetto del popolo agli oscia si era ritratto verso la porta ma dio mio gridò d'improvviso Caterina Ivanovna accozzando insieme le mani lui lui è stato capace di essere così disonesto così disumano raccontare a questa infame ciò che avvenne là in quella fatale giornata maledetta in eterno andate a vendere le vostre bellezze cara signorina essa lo sa vostro fratello è un vigliacco Alexei Fiodorovic agli oscia avrebbe voluto dire qualche cosa ma non trovava nessuna parola il cuore gli si serrava fino a fargli male andate ora Alexei Fiodorovic che vergogna sento che orrore domani ve ne supplico un ginocchio venite a trovarmi domani non mi giudicate perdonate e io non so che cosa farai di me agli oscia uscì in strada quasi vacillando anche lui avrebbe voluto piangere come lei di soprassalto fu raggiunto dalla cameriera la signora ha dimenticato di consegnarvi questa letterina da parte della signora Cioclacova la aveva in casa fin da prima di desinare agli oscia macchinalmente prese la piccola busta rosa e la infilò con un gesto quasi inconscio nella tasca un'altra reputazione perduta dalla città al monastero non correva che un miglio e qualche cosa agli oscia in fretta si avviò per la strada deserta a quell'ora era ormai quasi notte a trenta passi di distanza era diventato difficile distinguere gli oggetti a mezza strada si incontrava un crocicchio a quel crocicchio sotto un salcio solitario faceva spicco una figura d'uomo non appena agli oscia giunse al crocicchio la figura scattò si precipitò su di lui e con voce squarciata gridò o la borsa o la vita sai tu Mithia si stupì agli oscia non senza aver dato un violento sussulto non te l'aspettavi eh ho pensato dove aspettarlo presso casa di lei di là ci sono tre strade e mi saresti potuto scappare mi è venuta l'idea finalmente di aspettare qui già che qui tu dovevi passare a ogni costo altra strada per il convento non c'è ebbene dimmi tutto adesso schiacciami come uno scarafaggio ma che cos'hai niente fratello è così un po' di paura ah Dimitri poco fa quel sangue del babbo e agli oscia era scappato in lacrime da un pezzo gli andava di piangere ma ora ma ora ad un tratto era come se qualcosa gli si fosse lacerato nell'intimo tu per poco non l'hai ucciso l'hai maledetto ed ecco che ora qui un momento fa mi viene innanzi con gli scherzi o la borsa o la vita ah già e che non sta bene forse non hai intonato alle circostanze ma no io dicevo così aspetta guarda alla notte vedi che nottata buia che nuvole che vento s'è levato mi sono rimpiattato qua sotto il salcio e aspettando te di improvviso mi salta in mente dio me testimonio ma perché affannarsi ancora che cosa aspettare ecco qua il salcio il fazzoletto ce l'ho una funicella è presto fatta le bretelle per rinforzo e basta con l'essere di peso a questa terra basta con il disonorarla della propria miserabile presenza in quel mentre sento che vieni tu signore è stato come se d'improvviso qualche cosa mi venisse sopra a volo ma dunque c'è allora un uomo a cui voglio bene ed ecco qui eccolo questo micino il fratellino mio caro a cui chiudo ogni altro al mondo voglio bene e non voglio bene a nessun altro che a lui e ho sentito tanto amore per te tanto amore per te in quell'istante che ho pensato or ora me gli butto al collo ma una stupida idea mi è sopravvenuta voglio farlo ridere lo spaventerò e mi son messo a gridare come un balordo fuori la borsa perdona la balordaggine è stata una pazzia e nient'altro ma nell'intimo mio c'è ben altra coscienza della situazione ma all'inferno ogni cosa dimmi piuttosto com'è andata là lei che ha detto schiacciami pure massacrami non aver pietà è montata sulle furie no è andata in tutt'altro modo la è andata in tutt'altro modo mitia la le ho trovate la tutte e due insieme chi tutte e due grushenka in casa di katerina ivanovna dimitri fiodorovic restò impietrito non è possibile esclamò tu vaneggi grushenka in casa di lei ajosha raccontò tutto ciò che gli era avvenuto fin da quando aveva messo il piede in casa di katerina ivanovna continuò a raccontare per una decina di minuti non certo filatamente e con ordine ma in modo sufficiente a quanto sembra a far intendere chiaramente l'insieme dando spicco alle parole più importanti ai più importanti movimenti e ponendo in viva luce spesso con un sol tratto i sentimenti suoi propri il fratello dimitri ascoltava in silenzio rimolendola fisso in una strana immobilità ma ad agli oscia riusciva a palese che egli aveva già compreso tutto si era fatto un concetto di tutto l'accaduto se non che il suo viso man mano che il racconto avanzava si veniva facendo non già tetro ma come minaccioso aggrottava le sopracciglia arrotava i denti lo sguardo già immobile gli diventava se possibile sempre più immobile più duro più spaventevole e tanto più sorprendente fu il subitaneo fulmineo mutarsi tutto in una volta del suo viso in cui così roso e ferino e labbra serrate gli occhi si chiusero e dimitri piodolovic scoppiò di colpo nella più sfrenata nella più spontanea risata scoppiò letteralmente dal ridere e dal ridere rimase a lungo nell'incapacità di parlare sicché non le ha baciato la mano non gliela ha baciata e se ne è fuggita sghignazzava in una specie d'esultanza morbosa un'esultanza che si sarebbe potuta chiamare spudorata se non fosse stata un'esultanza così naturale sicché dunque quella gridava che era una tigre e una tigre proprio è sicché bisogna frustarla sul patibolo sì sì bisognerebbe bisognerebbe anch'io sono di questo parere che bisognerebbe è un pezzo ormai che bisognerebbe vedi fratello vada pure per il patibolo ma bisognerebbe prima di tutto guarirne come si rivela questa regina dell'impudenza c'è tutta lei qui c'è tutta lei nell'episodio di questa manina creatura infernale non è vero è la regina quella di tutte le creature infernali di quante se ne possano immaginare a questo mondo nel genere suo è un capolavoro sicché se ne è fuggita a casa sua ora io senz'altro voglio di corsa andare da lei agli oscia non mi condannare sono d'accordo anch'io sai che strangolarla sarebbe poco ma Caterina Ivanovna dolorosamente esclamò agli oscia anche a quella le leggo dentro le leggo dentro da parte a parte e le leggo dentro così bene come non mi è riuscito mai è una vera e propria scoperta delle quattro parti del mondo cinque cioè che passo è stato mai questo ci si ritrova tal quale quella medesima Catenca ancora fresca di collegio che di fronte a un balordo brutale ufficialetto non esitò a presentargli in casa per la magnanima idea di salvare suo padre a rischio di subirne un terribile oltraggio ma dove sarebbe allora l'orgoglio nostro e l'esigenza ad affrontare il rischio e la sfida al destino la sfida al mondo intero tu dici che quella zia ha cercato di trattenerla quella zia sappilo sarebbe la stessa la più gran prepotente che si possa immaginare è la sorella di quella generalessa moscovita e aveva alzato la cresta ancor peggio di quella ma il marito fu convinto di sottrazioni all'erario fu privato dei possedimenti e di tutto e l'orgogliosa consorte dovette di colpo abbassare il tono e fino a oggi non si è più risollevata sicché costei avrebbe dissuaso Katia e quella non le avrebbe dato retta io mi par di sentirla posso vincere qualunque cosa qualunque cosa mi sia soggetta se voglio anche Grushenka posso incantare così capisci ha creduto a se stessa ha fatto con se stessa la pavona chi è colpevole dunque chi crede che abbia fatto apposta a baciar per prima la mano a Grushenka per qualche calcolo astuto no lei per davvero per davvero era innamorata di Grushenka cioè non di Grushenka ma delle sue proprie fantasticaggini del suo proprio delirio per la semplice ragione che si trattava appunto di fantasticaggini mie di un mio delirio tesoro mio Agiosha ma come hai fatto tu a scamparla da loro da questa sorta di donne te la sei data a gambe forse tirandoti su la sottanella fratello mio ma tu mi sembra non hai neppure considerato che offesa hai fatto a Katerina Ivanovna raccontando di quel giorno a Grushenka e così subito questa le ha gettato in faccia che lei per prima andava dai cavalieri a vendere di soppiatto le sue bellezze fratello deve trovare un'offesa più grande di questa Agiosha soffriva soprattutto del pensiero che suo fratello fosse contento della mortificazione di Katerina Ivanovna sebbene era certo questa fosse una cosa impossibile oh bestia si rabuiò tutto d'improvviso Dimitri Fiodorovic e si batte col palmo della mano la fronte soltanto ora aveva acquistato coscienza della cosa benché Agiosha gli avesse riferito tutto poc'anzi sia l'offesa sia il grido di Katerina Ivanovna vostro fratello è un vigliacco già infatti può essere che io abbia raccontato davvero a Grushenka di quel giorno fatale come lo chiama Katia sì è così gliel'ho raccontato ora me ne rammento fu quella volta a Mokroe io ero ubriaco le zingare cantavano ma credi che piansi piansi io quella volta pregai dinnanzi all'immagine di Katia e Grushenka si rendeva ragione di tutto quella volta lei capì tutto me ne ricordo bene e lei per prima piangeva oh diavolo ma come mai è stato così diverso adesso allora piangeva adesso adesso il pugnale è in cuore così fanno le femmine chi no il capo rimase assorto io sono un vigliacco un vigliacco bello e buono disse a un tratto con voce tetra poco importa che abbia pianto o non pianto sono un vigliacco in ogni modo riferisci là che accetto il titolo se è una cosa che può servire di conforto e ora basta addio che stiamo qua a ciarlare non c'è niente di allegro tu per la strada tua io per la mia e neanche rivederci voglio più finché non sia proprio un minuto che so io addio agli oscia e serrò forte la mano ad agli oscia poi sempre con gli occhi a terra e senza alzare il capo quasi si strappò di lì scambando in fretta verso la città agli oscia con lo sguardo gli teneva dietro non potendo credere che così di colpo se ne fosse andato davvero aspetta Alexei ancora una confessione a te solo bruscamente Dmitri Piodorovic tornò indietro guardami guardami bene ecco qui vedi qui ecco si sta preparando una tremenda infamia nel dire qui ecco Dmitri Piodorovic si picchiava col pugno sul petto e lo faceva in un modo così strano come se quell'infamia si trovasse e fosse riposta proprio lì in petto a lui chissà dove in una tasca forse o cucita e appesa al collo tu già mi conosci sono un vigliacco un vigliacco confesso ma sappi bene che qualunque cosa io abbia commesso fin qui commetta ora o in avvenire nulla nulla può paragonarsi con la mia infamia che proprio adesso proprio in questo minuto porto qui ecco sul petto qui ecco qui che sta sviluppandosi e realizzandosi e che io sono pienamente padrone di arrestare ho il potere di arrestare o di compiere nota bene questo ebbene sappi allora che io la compirò e non la fermerò a mezzo poco fa t'ho detto ma questo non te l'ho detto perché neppure io avevo faccia tosta abbastanza è ancora in poter mio di fermarmi fermandomi posso domani stesso recuperare la metà esatta dell'onore perduto ma io non mi fermerò io compirò l'infame progetto e tu sì mi testimonio fin d'ora che io in anticipo e con piena coscienza ti dico questo rovina e tenebre da spiegare c'è poco a suo tempo verrai a sapere il fettido vicolo e la creatura d'inferno addio non pregare per me non me lo merito e poi non è il caso non è il caso davvero non ne ho bisogno affatto via e bruscamente si allontanò e stavolta in modo irrevocabile Agiosha si incamminò verso il convento ma come diceva come diceva che non dovrei rivederlo più insorse innanzi com'è una cosa assurda ma domani stesso a tutti i costi lo rivedrò e gli caverò io di bocca che cosa intendeva dire al convento ci girò torno a torno e pel boschetto dei pini si inoltrò direttamente verso l'asceterio l'agli fu aperto sebbene a quest'ora non ci fosse più per nessuno il permesso di entrare il cuore gli tremava quando entrò nella cella dello Starec perché perché era venuto via di qui perché quello lo aveva mandato nel mondo qui la quiete qui il sacro e là invece il tumulto là il buio nel quale ad un tratto ti smarrisci e traligni nella cella si trovava il novizio Porfiri e lo iero monaco padre Paisi che per tutta la giornata d'ora in ora era venuto a informarsi della salute di padre Zosima le condizioni del quale come Agiosha apprese con terrore erano andate sempre peggiorando eppure la consueta conversazione serale con la comunità dei monaci si era potuta tenere stasera già che per solito ogni sera dopo la funzione prima di coricarsi affluiva la comunità dei monaci nella cella dello Starec e ciascuno ad alta voce confessava a lui i falli della giornata i peccati di immaginazione e di pensiero le tentazioni perfino le beghe fra l'uno e l'altro se ce ne erano state alcuni si confessavano in ginocchio lo Starec giudicava riconciliava ammoniva imponeva le penitenze benediceva e congedava erano appunto queste confessioni associate quelle contro le quali erano insorti gli avversari dello stracestuo dicendo che si aveva qui una profanazione della confessione in quanto sacramento e quasi un sacrilegio sebbene in realtà si trattasse di tutt'altra cosa avevano pure fatto presente all'autorità vescovile che confessioni si fatte non solo non conseguivano un risultato benefico ma effettivamente e prevalentemente inducevano in peccato e in tentazione molti della comunità per esempio sentivano ripugnanza recarsi dallo Starec ma controvoglia ci si riducevano per il fatto che ci andavano tutti a fine di non essere presi per superbi e ribelli si raccontava che alcuni dei monaci avviandosi alla confessione serale si metteva in prima d'accordo fra loro io combinavano dirò che stamattina mi sono stizzito con te e tu confermano tutto questo per avere qualcosa da dire pur di potersi distinguere Ayosha sapeva che in realtà qualche volta avveniva proprio così e sapeva pure che nella comunità c'era un buon numero di scontenti per un'altra ragione e cioè per la consuetudine che perfino le lettere dei familiari ricevute dai monaci dell'asceterio fossero prima portate allo Starec che le aprisse e le leggesse prima dei destinatari si presupponeva naturalmente che la cosa si eseguisse liberamente schiettamente di tutto cuore a titolo di spontanea sottomissione e di salutare edificazione ma in pratica risultava poi che alle volte tutto si svolgeva in modo tutt'altro che schietto e anzi con artifici e finterie tuttavia i più anziani ed esperti della comunità rimanevano del loro parere giudicando chi è entrato fra queste mura con la sincera intenzione di santificarsi per costui tutti questi atti di abnegazione e tutte queste prove riusciranno indubbiamente salutari e gli saranno di grandissimo giovamento chi invece sta qui di malavoglia è sempre pronto a mormorare costui si può far conto che non sia neppure un monaco ed è perfettamente inutile che sia venuto in convento il posto suo è nel mondo dal peccato e dal diavolo poi non solo nel mondo ma anche nel tempio non si riesce a guardarci e non è dunque il caso di essere indulgenti col peccato si è indebolito lo ha sopraffatto la sonnolenza in un bispiglio comunicò ad agli oscia padre Paisi dopo avergli impartito la benedizione svegliarlo non è cosa facile ma poi non bisogna svegliarlo per un 5 minuti si è risentito ha chiesto che si recasse alla comunità la sua benedizione e che la comunità dicesse per lui le preghiere notturne domani mattina ha intenzione di comunicarsi un'altra volta di te si è rammentato Alexei si è informato se fossi uscito e gli è stato risposto che era in città appunto per questo gli ho dato io la benedizione là è il posto suo non qui ecco come si è espresso su te con amorevolezza ti ha mentovato con premura ti rendi conto dell'onore che ti sei meritato chissà perché però ha stabilito così che per ora il tuo dovere è nel mondo bisogna che egli preveda qualcosa nel tuo destino comprendi bene agli oscia che seppure tu facessi ritorno al mondo sarebbe come per eseguire una penitenza imposta a te dal tuo starec non già per abbandonarti alla frivola leggerezza e ai tripudi mondani padre paesi uscì che lo starec venisse mancando era per agli oscia un fatto di là da ogni dubbio sebbene non fosse impossibile che avesse ancora un giorno due giorni di vita fermamente e impetuosamente agli oscia risolse che nonostante tutte le promesse date di rivedersi domani col padre con le cioclacov con il fratello e con Caterina Ivanovna domani non avrebbe lasciato affatto il convento e sarebbe rimasto presso il suo starec fino all'ultimo suo momento di vita il cuore gli avvampava d'amore e si rimproverò amaramente di aver potuto per qualche tempo la in città dimenticare addirittura colui che aveva lasciato al monastero sull'orlo della tomba colui che venerava più di ogni altro su questa terra si inoltrò nella piccola camera dello starec si inginocchiò si prostrò fino a terra al dormente questi dormiva in pace immobile respirando appena d'un respiro uguale e quasi impercettibile il suo volto era tranquillo tornato nell'altra stanza quella stessa dove al mattino lo stare ci riceveva i visitatori agli oscia senza quasi svestirsi e togliendosi soltanto le scarpe si coricò sul duro e stretto divanuccio di cuoio sul quale era abituato a dormire da un pezzo ogni notte portando di suo il guanciale e nient'altro quanto al materasso di cui gli aveva gridato oggi suo padre si era scordato da un pezzo ormai di adagiarselo sotto si sfilava soltanto la tonaca e con essa si copriva a mo' di coperta ma prima di abbandonarsi al sonno si gettò in ginocchio e a lungo pregò nella sua ardente preghiera non chiedeva a Dio di chiarirgli il suo turbamento ma bramava unicamente la gioiosa tenerezza la tenerezza di sempre che non mancava di visitargli l'animo dopo la lode e l'esaltazione di Dio nelle quali consisteva di solito tutta la sua preghiera alla vigilia di dormire questa gioia che soleva così visitarlo si conduceva dietro un sonno lieve e tranquillo mentre anche adesso pregava d'improvviso casualmente si sentì nella tasca quella bustina rosa che gli aveva consegnata rincorrendolo in strada la cameriera di Caterina Ivanovna egli se ne turbò ma terminò la preghiera quindi dopo una certa esitazione aprì la busta c'era dentro una letterina per lui firmata l'ise appunto quella giovane figliuola della signora kocioklova appunto quella giovane figliuola della signora cioklakova che stamattina aveva tanto riso di lui alla presenza dello Starec Alexei Fyodorovic scriveva vi scrivo di nascosto a tutti anche alla mamma e so che questo è poco bello ma io non posso più vivere se non vi dico ciò che è menato dentro al cuore e che nessuno forché noi due deve sapere per ora come farò però a dirvi quel che ho tanto bisogno di dirvi la carta dicono non si fa rossa vi garantisco che non è vero che si fa rossa anch'essa proprio come sta succedendo a me caro Aglioscia io vi amo vi amo da quando eravamo piccoli a Mosca quando voi eravate tanto diverso da ora e vi amerò per tutta la vita io vi ho scelto col mio cuore per unirmi a voi e invecchiai a finire insieme la nostra vita alla condizione si intende che voi usciate dal monastero quanto poi alla vostra età aspetteremo quanto è imposto dalla legge per quell'epoca io sarò certamente guarita camminerò e ballerò questo è fuori discussione vedete come ho pensato a tutto c'è una cosa sola a cui non posso arrivare col pensiero che cosa penserete voi di me quando leggerete io sempre rido e scherzo e poco fa vi ho fatto inquietare ma vi assicuro che ora prima di prendere la penna ho pregato dinnanzi all'immagine della madonna e anche adesso sto pregando e per poco non piango il mio segreto è nelle vostre mani domani quando verrete non so neppure come farò a guardarvi ah alexei piodorovic che sarà se di nuovo non saprò frenarmi come una sciocca e mi metterò a ridere come poco fa guardando a voi certo voi mi prenderete per una sprecevole burlona e a questa lettera mia non presterete fede perciò vi supplico mio caro se avete un po' di compassione per me quando verrete da noi domani non mi guardate troppo fisso negli occhi perché io incontrandomi coi vostri occhi chissà sono sicura che di improvviso mi metterò a ridere tanto più che voi avrete indosso quell'abito lungo lungo già fin d'ora rabbrividisco tutta se ci penso e perciò quando entrate voi state un po' di tempo senza guardare affatto verso di me e guardate a mammina o alla finestra ed ecco che v'ho scritta una lettera d'amore mio dio cosa ho fatto agli oscia non mi disprezzate e se ho fatto una cosa molto brutta e v'ho offeso allora perdonatemi ormai il segreto della mia reputazione forse per sempre perduta è nelle vostre mani oggi lo passerò di sicuro a piangere arrivederci arrivederci a quel terribile momento lise ho scritto agli oscia voi però ad ogni costo ad ogni costo venite lise agli oscia lesse con stupore lesse una seconda volta rimase sovra pensiero e a un tratto silenziosamente dolcemente velocemente si mise a ridere ebbe un sussulto questo riso gli era parso peccaminoso ma di lì a un momento di nuovo si mise a ridere dello stesso riso silenzioso e felice ad agio ad agio infilò la lettera nella piccola busta si fece il segno della croce e si coricò la citazione che poco fa aveva nell'anima era svanita di colpo signore abbi pietà di loro tutti quelli di poco fa proteggili così infelici e tempestosi e riportali al bene tu hai tante vie per queste tue vie conduci di a salvazione tu sei amore tu a tutti manderai dunque la gioia mormorò segnandosi agli oscia mentre un placido sonno lo invadeva con la gioia la gioia la gioia di soli la gioia e la gioia la gioia di soli Grazie a tutti.